Egam un buco nell'acqua, punto in derogativo però, perché cercheremo di capire se la soluzione ideata e proposta dalla Giunta regionale sulla gestione unica del servizio idrico molisano, va in porto o no? Intanto vi do subito la notizia che il Consiglio regionale è stato aggiornato a giovedì 13 aprile, hanno analizzato, ovviamente oggi non è che hanno perso tempo, hanno approvato sei articoli, diversi, tanti emendamenti, alcuni anche bocciati, la maggioranza di centro-sinistra mi sembra non sia compatta su questo argomento, ne parleremo approfonditamente questa sera con gli ospiti che vi vado subito a presentare. L'ingegnere Massimo Pillarella, buonasera ingegnere, benvenuto di nuovo, lei è stata già un'altra volta qui a Moby Dick, pochissime volte per la verità, l'ingegnere è dirigente della regione ed è commissario di Molise Acque, quindi chi più di lui può illustrarci bene la proposta. A seguire la dottoressa Marcella Stumpo, buonasera dottoressa, che fa parte del forum per l'acqua pubblica e ovviamente lo sapete già tutti, è della fondazione Don Milani. A seguire un sindaco di un piccolo comune, un sindaco che ha fatto battaglia sull'acqua per mantenere la pubblica e contro l'Egam hanno fatto ricorsi ed è Peppe Notar Tommaso, sindaco di Campodipietra. Buonasera sindaco. Buonasera e grazie. Un esperto della materia, un combattivo a seguire, Nicola Lanza del Movimento Prima le Persone. Buonasera dottor Lanza. Buonasera. Un volto noto a Tere Molise, non solo, ma anche a Moby Dick, Massimo Romano. Buonasera Romano, avvocato, ha difeso i 16 comuni che si sono opposti all'Egam e ovviamente politicamente ha ideato e creato coscienza civica. Non poteva mancare il sindaco e il presidente della provincia di Campobasso, Antonio Battista. Buonasera sindaco presidente. Buonasera. Benvenuto tra noi. Prima di cominciare la discussione partiamo subito con la copertina che racchiude un po' i temi in discussione da oltre un anno, devo dire, in consiglio regionale, ma ripeto, ancora non si arriva alla fine. La copertina ce l'ha preparata. Pasquale Di Bello, ascoltiamola insieme. Se ne discute da un anno e mezzo e comunque la si giri, quella dell'Egam è una storia che fa acqua da tutte le parti. Ennesima seduta del consiglio regionale ed ennesimo braccio di ferro tra i consiglieri. Dopo la scoppola rifilata da una maggioranza trasversale a Paolo di Laura Frattura, il centrosinistra corre ai ripari e tenta di recuperare i dissidenti che nella seduta precedente hanno bocciato la figura del direttore generale dell'ente, chiamato a gestire le risorse idriche molisane. Il pericolo concreto è che dopo la fase di avviamento le piroette e le volute attorno agli emendamenti presentati in quantità industriale da tutte le parti, la proposta di legge 136 formulata dalla Giunta regionale venga clamorosamente bocciata e con essa va da fondo quel poco o quel niente che tiene in vita una maggioranza avviata ormai al tramonto. Il risultato della battaglia al momento è la bocciatura di un paio di proposte modificative avanzate con due distinti emendamenti dai consiglieri Iorio e Niro, entrambe tese a definire in maniera inequivocabile la gestione pubblica di tutto il ciclo integrato dell'acqua. Il tema dello scontro che si è riproposto anche nell'ultima seduta del Consiglio regionale è infatti quello della deriva privatistica che potrebbe assumere la gestione dell'acqua pubblica. All'esame dell'Aula è poi arrivata una ulteriore proposta della Giunta tesa ad affidare ad una ulteriore società, un'azienda speciale diversa da Legam e diversa da Moliseacque, la gestione delle reti idriche. In definitiva una terza società nella quale sono chiamati a confluire Legam stessa, la Moliseacque e i comuni molisani. Come ben si comprende, quella posta all'esame del Consiglio regionale è una delle leggi più confusionarie della storia politica e amministrativa della regione molise. Al marasma mozzafiato che agita il palazzo si aggiunta strada facendo la durissima opposizione di movimenti e comitati in difesa dell'acqua pubblica e dell'esito referendario che ne ha sancito in maniera inequivocabile la qualità di bene intangibile. Se al fronte del distingo e delle opposizioni si aggiunge il precedente della bocciatura operata dal TAR lo scorso novembre di un'analoga proposta varata dalla Giunta regionale cassata per incompetenza dai magistrati amministrativi, il quadro a tinte fosche che se ne ricava è a dir poco inquietante. Una ostinazione, quella di fratture soci, che lascia adito a più di una perplessità e dubbio, facendo di quello che per definizione è un bene trasparente e cristallino, una torbida pozza sotto la quale potrebbe nascondersi per i cittadini il rincaro delle tariffe e la perdita di sovranità. Bene, grazie a Pasquale Di Bello. Ovviamente i servizi, come al solito di Pasquale, hanno subito innescato la miccia. Vediamo se scoppia o meno. Il sindaco Battista ci dovrà lasciare verso le 10, quindi sarei tentato di partire subito da lui, però rispetto al servizio e a quello che ha, come dire, raccontato Pasquale Di Bello, darei subito la parola all'ingegnere Massimo Villanelle, che tra l'altro, lo dicevo, è commissario di Molise Acque. Prego. Ci sta questa terza ipotesi di una terza società? Vabbè, io non vedrei, cercherei di semplificare, così penso di rendere tutto molto più semplice. Non vedrei necessariamente l'aumento di società come una complicazione, una non semplificazione. La situazione che potrebbe delinearsi è molto semplice. C'è l'EGAM, che evidentemente è l'unico soggetto costituito dai comuni e che per legge è l'unico che può attivare l'operazione di gestione delle acque, ma non può farlo direttamente. E quindi ha bisogno, secondo la normativa, di fare un percorso di scelta di questa funzione molto importante e molto delicata. Ne discutevamo prima. Le opzioni che ha l'EGAM, che sono rimesse alla libertà, all'indipendenza, all'autonomia di EGAM, sono tre. Ce n'è una, che è quella mista di cui non sento nemmeno tanto parlare, forse evidentemente è anche la meno considerata, quella cioè di formare una società pubblico-privata nella quale il soggetto privato viene scelto con una gara. Perché nessuno vuole il privato all'interno di una società di questo tipo, probabilmente. L'altra è quella che prevede la normativa comunitaria inevitabilmente, le regole della concorrenza, il fatto che l'acqua rientri nei servizi di interesse economico generale, cioè quella di una gara aperta quindi anche ad un imprenditore e ad un operatore privato. E la terza, che mi sembra sia quella più vicina al volere comune, al convincimento di tutti, è quella di utilizzare il percorso dell'in-house, quindi di un soggetto pubblico, al di là di alcune definizioni legate magari alla natura di avere un capitale sociale o comunque delle attività di tipo imprenditoriale, comunque pubblico, per il quale Moliseacco è già autorizzato a costituire una società, quindi anche attraverso una trasformazione in cui i comuni in ogni caso rappresenteranno una maggioranza dal 51% e nei quali eserciteranno le tipiche attività che si hanno in riferimento all'essere in house, quindi il controllo analogo, dettare delle strategie, quindi controllare esattamente l'operatività aziendale che vada secondo le regole e mai come più che in questo caso si parli di regole di rispetto del pubblico, tra l'altro nella legge ci sono tantissimi spazi per le persone in difficoltà, per i comuni, quindi tutte quelle marginalità importanti di cui avete discusso sono tutte presenti e saranno tutte rispettate. Però ingegnere, nella proposta di legge e neanche nello statuto dell'Egam che la Giunta ha già approvato, non si esclude la gestione privata, cioè non è mai menzionata che la gestione deve essere obbligatoriamente pubblica. Non si esclude perché non si può fare evidentemente, perché sarebbe andare contro la normativa comunitaria nazionale, perché bisogna rispettare le tre opzioni, questo è evidente, credo che qualche regione che abbia invece già fatto una scelta di questo tipo sia stata poi cassata credo in Consiglio di Stato perché evidentemente è un'operazione al momento non fattibile, quindi viene rimessa a loro. Tra l'altro oggi è passato un emendamento all'articolo 6 che prevede proprio la possibilità di istituire la società in house e Molise Acqua e Molise Acqua già è autorizzata, diceva lei, però bisogna cambiare lo statuto, bisogna cambiare lo statuto. Evidentemente, poi ci sono dei passaggi. Bene, allora passiamo al Sindaco Battista, il Comune di Campobasso da subito si è schierato in favore dell'Egam, ci fu un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale, lei ha difeso questa istituzione, Egam e da molte parti altri sindaci, per esempio la Contessa. Non è ancora convinto Battista di questa posizione? Guardi, qua bisogna guardare molto pragmaticamente in faccia alla realtà. L'acqua non può essere gestita più da 136 sindaci, da 136 comuni, occorre una gestione diversa, perché ci sono delle direttive europee, perché ci sono delle leggi nazionali, ci sono degli obblighi da rispettare anche da parte della regione Molise e abbiamo una condizione disastrosa degli acquedotti comunali. E questo è un dramma molisano. Non ci dobbiamo girare intorno. Il Campobasso perde il 60% nelle condutture. 65% dell'acqua. Venafro 70%, sì è vero, Venafro ancora più alta. Allora occorre trovare un nuovo modello di gestione, perché fino a oggi non siamo stati in grado di trovarlo, questo nuovo modello di gestione, atteso che ci sono degli obblighi rispetto ai quali occorre adempiere. E quindi questi sono dei obblighi, specifichiamo, derivanti da una legge nazionale approvata dal governo Rezzi. Quindi ci sono questi obblighi. Allora, probabilmente occorre trovare il miglior dispositivo di legge possibile per garantire le coscienze e garantirci politicamente a che l'acqua resti il bene pubblico e venga erogato come acqua pubblica. Il problema è la gestione, Sindaco. Sì, però mi deve consentire, Giovanni. Prego. Devo prima fare qualche preambolo a questa storia, perché nessuno deve poter pensare che il Sindaco di Campobasso, così come tutti gli altri sindaci che hanno aderito a Legam rapidamente, siano quei sindaci che non vogliono che l'acqua resti pubblica. Noi vogliamo che l'acqua resti pubblica, assolutamente, anche nella gestione successiva, eventualmente, tramite Legam. Quindi questo è fuori discussione. Non è scritto questo in maniera chiara, neanche all'interno della legge? Io all'interno del Cal, in regione, ho riespresso di nuovo la posizione del Comune di Campobasso. L'acqua resti acqua pubblica. Ora occorre tornare a ragionare, così non si va da nessuna parte. Campobasso butta, butta il 65% dell'acqua che preleva alla sorgente. Non facciamo un buon servizio alla natura, proprio quella natura che noi vogliamo salvaguardare, mettendoci a discutere giustamente acqua pubblica oppure a ricercare il miglior modello di gestione del sistema della distribuzione dell'acqua. Allora, detto questo, all'interno della norma, i consiglieri regionali devono ricercare tutte quelle garanzie, probabilmente l'utilizzo di molise acqua è uno di quei meccanismi che può metterci in condizione di stare tranquilli, di avere delle garanzie successivamente nella gestione, atteso che la norma vigente richiede che le opzioni nella scelta del gestore siano tre. Però nel dispositivo di legge è possibile, ci sono bravissimi tecnici che lavorano su questo, è possibile ricercare la soluzione a che noi tutti, anche nella nuova adesione che probabilmente dovremo deliberare, la potremo fare con grande tranquillità, perché vedete è il futuro, non è il passato. Non solo il futuro, a mio giudizio l'acqua molisana è l'oro per il Molise, se si sa valorizzare, no in genere d'accordo, ha finito Battista. Direi di chiudere qui, per il momento. Chiudiamo qui, allora prima di passare a Massimo Romano ci facciamo spiegare bene, lui c'è stato fino alla fine, da Francesco Totaro, consigliere regionale, cosa è successo in consiglio. Consigliere, è in linea? Pronto? Buonasera a lei, il consiglio è stato aggiornato al 13 aprile, per quale motivo? Per mancanza di tempo, per poter analizzare e discutere tutti gli altri emendamenti, o perché c'è ancora una forma di contestazione all'interno della maggioranza? No, vabbè, diciamo più che una contestazione c'è una non condivisione rispetto al disegno di legge così come è stato presentato e come sta in discussione. Oggi veramente si è ragionati e si è fatto poco, anche perché abbiamo una serie innumerevoli di emendamenti che erano già stati presentati ed altri sono arrivati, quindi vi è una gran confusione, devo dire a mio avviso in consiglio, anche perché, e io più volte l'ho ribadito nelle altre discussioni, nelle altre sedute del consiglio regionale, una legge non può arrivare in consiglio regionale con una serie innumerevole di emendamenti, di sub-emendamenti, di emendamenti all'emendamento che poi la vanno a spavolgere, la legge doveva andare in commissione e in commissione doveva arrivare un testo definito, poi in aula si apportavano dei miglioramenti eventualmente a quel provvedimento. Dicevo che sul disegno di legge non vi è una contestazione di maggioranza, ma vi è una non condivisione rispetto a quel disegno di legge, perché vedete con tutta la buona volontà, con tutta la buona fede che la giunta regionale e che la maggioranza che vota quel disegno di legge e vuole metterci, ma alla fine finiremo che l'acqua pubblica verrà gestita dai privati così come è successo in altre parti d'Italia e questo è una cosa che noi non condividiamo, che io non condivido e che non è ammissibile, perché potremmo correre un rischio altissimo per i cittadini di vedersi recapitare nella propria abitazione bollette elevatissime. Scusi consigliere, oggi avete approvato, non so lei come ha votato insieme agli altri quattro di centro-sinistra che io lo chiamo distenso, ma lei la chiama non condivisione, va bene, siamo lì, un emendamento all'articolo 6 che può prevedere una società in house, lei l'ha votato quell'emendamento? Sì, l'abbiamo votato, ma io credo che alla fine il testo di legge, anche perché vi è una difficoltà nell'inserire norme che vanno a vincolare una forma di gestione pubblica, è praticamente impossibile così come è stato impostato il disegno di legge, per fare questo a mio avviso bisognava fare un disegno di legge diverso, un disegno di legge che andava a modificare prima, in questo caso poteva essere moliseacque, che poteva avere una forma di gestione dell'acqua, ma così come è stato impostato il disegno di legge sarà praticamente impossibile. Però Totoro, l'ingegnere Pillarella diceva un attimo fa, non è possibile inserire un'addizione, per esempio un paragrafo nel quale si attesti, si approvi che l'acqua, la gestione dell'acqua deve essere esclusivamente pubblica? È impossibile, è impossibile, condivido quello che dice Pillarella, lo condivido anche perché ci sono pronunciamenti alla Corte Costituzionale che dicono questo, per questo io dico che se il disegno di legge andava costruito in maniera diversa io credo che potevamo avere un gestore pubblico che poteva essere l'ERIM. Quindi con moliseacque sostanzialmente, previa modifica dello statuto evidentemente di moliseacque. Esatto, 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 andava fatto prima. Si discute da un anno e mezzo di ECAM più o meno, come finirà questa vicenda? Mi riferisco sempre a lei che sta insieme a altri quattro consiglieri, ricordiamo, Nunzia Lattanzio, Massimiliano Scarabbeo, Michele Petraroia e Nunzia Lattanzio. Come finirà? Voterete alla fine il testo modificato? Ma io posso dire quello che farò io, ovviamente, sia come consigliere regionale e anche parlo a nome del partito che rappresenta all'interno del Consiglio regionale che è l'articolo 1 democratico e movimento democratico e progressista. MDP? MDP, esatto. Io se dovesse rimanere questa forma così come è stata presentata e così come vi è ora in Consiglio regionale, voterò no. Con il rischio ovviamente che la maggioranza vada sotto. Io mi auguro che la maggioranza si ravveda, si rimanda tutto in commissione e si riparta da capo. Totoro, diciamo pure, oggi pomeriggio mi hanno riferito, io non ero in Consiglio, sono affascendato in altre cose in questo periodo, non si è presentato Nicola un consigliere regionale di opposizione di centrodestra, è vero? Sì, era assente, ha giustificato l'assento, non so per quale motivo, non so qual è la motivazione. No, neanche noi lo sappiamo, magari aveva da fare, però è un dato politico, Nicola Cavaliere non ha partecipato ai lavori del Consiglio. Poi gli darei possibilità a Cavaliere di dirci perché. Va bene, io la ringrazio. Grazie a lei, buona serata, Massimo Romano, su questa vicenda lei l'ha combattuta all'inizio questa legge, ha patrocinato 16 comuni, mi sembra avete vinto su alcune questioni, per esempio sul fatto che è compito del Consiglio decidere come fare e come organizzare l'Ega, ma non dell'Aggiunta, ma a questo punto il rischio vero, se dovesse essere approvata questa legge, qual è? Intanto grazie dell'invito, buonasera e buona ripresa di Moby Dick. Io proverei a semplificare perché mi rendo conto che sono questioni che per gli addetti ai lavori possono apparire in qualche modo chiare, probabilmente per chi ci ascolta non sempre si riesce a cogliere qual è la questione politica che si sta affrontando. Il problema che c'è in gioco riguarda la tutela dell'acqua come bene prezioso del Molise e riguarda la possibilità che si registri una impennata delle tariffe per tutti i cittadini che oltre a tutti gli aggravi di spesa che in qualche modo si registrano quotidianamente potrebbero vedersi per l'appunto incrementate anche le tariffe idriche. Questa è la partita di cui stiamo discutendo. La Regione deve approvare e deve ridisegnare la gestione del servizio idrico in esecuzione di alcune leggi dello Stato e di alcune normative comunitarie. A nostro avviso su questo fronte si è perso più di un anno di tempo. I comuni che hanno promosso i ricorsi al Tar Molise e che hanno visto riconoscersi appunto dalla giustizia amministrativa le ragioni che da più di un anno andavano in qualche modo a sollecitare all'Aggiunta regionale, il Tar ha annullato il primo procedimento che aveva istituito l'Egam rilevando l'incompetenza dell'Aggiunta in luogo di quella del Consiglio. Quindi se oggi si sta discutendo nuovamente di questa questione è perché 18 per la verità sindaci hanno ritenuto di dover promuovere ricorso per rivendicare quello che era un diritto, diciamo così, a che sulla questione acqua si pronunciasse il Consiglio regionale consentendo per l'appunto a tutti i cittadini, a tutte le associazioni, a tutti gli amministratori di poter seguire le modalità attraverso le quali si andava a ridisegnare il sistema idrico. Altrimenti sarebbe chiusa lì, cioè altrimenti oggi avremmo appunto l'Egam che è stato deciso dalla sola Giunta regionale, quindi quattro persone, ed era stato in qualche modo poi, io dico imposto ai comuni, ma senza voler mancare di rispetto all'autonomia dei singoli comuni, però obiettivamente quell'adesione è stata molto contestata perché in realtà la Costituzione dell'Egam e anche oggi, diciamo, quegli stessi problemi si stanno riproponendo, è un po' un salto nel buio perché non si conoscono i costi dell'Egam, nell'articolato di legge non c'è una disamina di quale sarà il costo non solo di funzionamento ma anche dell'apparato stesso dell'Egam e soprattutto non c'è ancora nessun tipo di impostazione di quale sarà il meccanismo tariffario che si andrà ad applicare. In questo senso i sindaci che hanno patrocinato il ricorso, ma voglio dire è condivisibile anche in termini proprio al di là del dato giuridico politici, si sarebbero potuti seguire delle altre strade, cioè la legge non impone di costituire un nuovo ente, cioè l'Egam, la legge dice individua. Questo è un passaggio importante, cioè molti sindaci mi hanno chiamato, tra l'altro anche Alberto Gentile, che conoscete, di Sernino, che ha fatto pure un po' di politica, ha ribadito che i comuni possono decidere autonomamente, cioè quella minaccia di commissariamento che l'Aggiunta ha fatto ai comuni che non avevano aderito, non regge sostanzialmente da un punto di vista giuridico. Esattamente, nella precedente gestione deliberata dall'Aggiunta sicuramente non reggeva perché se c'è un obbligo di adesione allora non c'è bisogno di una delibera di consiglio per aderire, cioè è quasi logico, diciamo, se è un'adesione obbligatoria non c'è bisogno che il Comune la deliberi, se c'è una delibera è perché il Comune nella sua autonomia costituzionale può decidere di aderire o meno. A me risulta che circa 20 comuni, 16, 18 li abbiamo assistiti professionalmente, ma insomma una ventina di Comuni hanno deliberato con una serie di motivazioni basate proprio sul fatto che la delibera sarebbe stata nulla perché non c'era la predeterminazione dei costi, hanno deliberato di non aderire. Ma volevo chiarire l'aspetto di prima, cioè la Regione, non glielo ha detto nessuno, che doveva istituire un nuovo ente, avrebbe potuto individuare un ente già esistente, io pensavo per esempio alla provincia, cioè la provincia come ente pubblico... Ma non diventava più un ambito unico regionale, è la mia provincia. Ma quella è una scelta di dover fare un ambito unico regionale, si poteva anche decidere che, in osseguo ad una riorganizzazione territoriale istituzionale, si poteva assegnare questo tipo di impostazione alla provincia, che è un ente che io condivido il grido di dolore, in qualche modo, del Presidente Battista così come era stato quello del Presidente De Matteis. Le province sono degli enti che svolgevano un ruolo di area vasta, di programmazione più ampia, di gestione di alcuni servizi associati, sono state messe alla fame, alla canna del gas. Bene avrebbe potuto fare la Regione, a mio avviso, impostare un disegno di riforma attribuendo alle province, di concerto con i comuni, di modo democratico, utilizzando anche quelle risorse umane che ci sono in provincia. Certo, ci sono dei problemi di bilancio, ma attraverso una pianificazione anche della spesa pubblica più oculata si poteva attribuire alle province questo compito. Poteva essere un modo. Dopodiché è evidente che, se lo si diceva prima, c'è il problema della gestione. Cioè, posto che si istituirà l'EGAM, io mi auguro che la Regione si fermi, cioè mi auguro che un passaggio politico, legislativo, così delicato, venga un po' sottratto a questo tipo di polemica politica. Lo dico con rispetto delle posizioni che ci sono. Però, obiettivamente, c'è voluto un anno e mezzo per sapere, dal Tarmolise, che la Giunta aveva sbagliato tutto. Oggi sono stati costretti a ritornare in Consiglio regionale. Non c'è una maggioranza, perché per approvare una legge così importante non si può, diciamo, sottostare a veti incrociati. Da questo punto di vista, la ragione è il consigliere Totaro. Se riportasse in commissione, si perde una settimana in più, però si disegna, anche in senso tecnicamente valido, quello che è un percorso del quale ne va del futuro della più grande ricchezza che abbiamo. Perché, e chiudo, secondo me il problema è politico. Non è un tanto un problema tecnico, cioè di come si deve fare per raggiungere un determinato obiettivo. È ineccevibile l'intervento dell'ingegnere Pillarella sotto il profilo tecnico. Il problema però è politico e riguarda come politicamente si vuole impostare e gestire questo snodo decisivo. L'acqua deve restare pubblica, come dicono a parole praticamente tutti. Allora, in televisione a Moby Dick ci possiamo permettere il lusso di parlare. Se stiamo in Consiglio regionale o nelle assemblee istituzionali, si parla con gli atti normativi, legislativi ed amministrativi. Perché le chiacchiere stanno a zero e perché questa classe politica ha già dimostrato di dire una cosa e di fare esattamente il contrario. Quindi, come cittadino, non mi sento tutelato da dichiarazioni di principio dove dovremmo inchinarci, magari scappellarci pure, perché l'ha detto l'assessore. Cioè, francamente, l'assessore... Poi avremo l'assessore collegato, magari risponderà lui. Ma no, ma dico l'assessore per dire il Presidente o il Consigliere. Cioè, c'è un Consiglio regionale, c'è un'aggiunta regionale, vogliono preservare la natura pubblica della gestione del bene. Devono fare gli atti conseguenti. Non si nascondessero dietro il fatto a dobbiamo fare subito, sennò viene il commissariamento. Se ci mettete un anno e mezzo per capire che la competenza di istituire un ente è del Consiglio della Giunta, non ve la potete prendere poi con i cittadini. Certamente. Nicola Lanza, dicevamo prima approvato questo emendamento sul quale lei, per la società Enaus, una possibile soluzione, sul quale lei ha subito contestato. Perché contesta questa possibilità? Se il problema è politico, andrebbe affrontato politicamente, non giuridicamente. Quando si antepone un problema giuridico a un problema politico vuol dire che la politica non vuole risolvere il problema. Ha indicato bene Massimo Romano prima, se si volesse scegliere per un indirizzo pubblico della gestione dell'acqua e considerare l'acqua anche una risorsa che può generare lavoro nel territorio ed è una visione politica, probabilmente invece di pensare di istituire l'Egam si potevano utilizzare le due province. E non staremmo oggi a discutere di società Enaus o società speciali. che sono due società, la società Enaus è una SPA, noi possiamo dire di diritto pubblico perché è interamente posseduto dal pubblico ma è regolato, avendo una sua personalità giuridica dal diritto privato in Italia. In un'Europa dove tra l'altro da 15 anni a questa parte si va verso la ripubblicizzazione dell'acqua ha riportato la gestione pubblica nella città di Parigi. Stessa cosa lo fa in Germania Berlino, ripubblicizzano la gestione dell'acqua dopo un referendum cittadino che ha visto come in Italia una partecipazione ampissima dei cittadini che come sempre si dichiarano per l'acqua pubblica. lì c'è stata una partecipazione del 98%. Che cosa succede? Che le multiutility europee escono dal mercato ricco di Parigi o ricco di Berlino e aggrediscono i mercati italiani. c'è un percorso segnato dove l'interesse privato sta lavorando in Italia per aggredire le fonti e quindi questo è il grosso problema, le fronti dell'acqua del sud Italia. Io le dico una cosa, anche alcuni imprenditori molisani un po' di tempo fa, anche non molisani, hanno provato a fare la guerra dell'acqua perché si sono poi schierati in un modo o nell'altro il rapporto al diniego ricevuto per non avere in gestione l'acqua pubblica che diventava privata in quel caso. Quindi l'appetito sull'acqua c'è, non c'è dubbio e ci sono molti imprenditori di svariate categorie di provenienza che sono lì pronti a fare il business perché l'acqua potrebbe diventare un business. Quindi a questo punto il rischio c'è. Se posso dare un dato, l'unica città in Italia che ha ripubblicizzato l'acqua è Napoli. Utilizzando... Napoli c'è De Magistris. Utilizzando... c'è De Magistris dall'altro. Utilizzando ABC, acqua bene comune, società speciale di diritto pubblico. Noi qui ancora parliamo che le normative europee ci imporrebbero perché questo è il punto, ci imporrebbero che l'acqua, cioè che la gestione rispettasse la formuletta che prima l'ingegnere ci ha enunciato. Il problema è che le normative europee in questo momento sono state, sono in via di revisione, proprio per tutelare l'acqua. E quindi voglio dire, in Italia facciamo il contrario. L'Europa è in via di revisione, possiamo dire, no? Sì, però in Italia facciamo il contrario, voglio dire. Invece di mantenere pubblico quello che noi oggi abbiamo pubblico, lo portiamo verso il privato. Le stavo dicendo, il dato drammatico della Campania, che l'acqua Campania parla francese... Che deve pagare l'acqua al Molise, tra l'altro, ancora non finisce. No, che deve pagare tra l'altro anche l'acqua al Molise. Poi ci dirai un po' di numeri. Che De Magistris fa una società, diciamo, speciale, dove tra l'altro partecipano all'interno del Consiglio da una società speciale, anche il mondo associativo, che è un controllo dei cittadini, che è stato un controllo efficace e si è dimostrato che le società, diciamo, ABC, non solo efficace, è efficiente, produce utili e migliora il servizio. Questo è dimostrato. Nel frattempo cambia il governo regionale in Puglia e tolgono con delibera regionale una fonte importantissima che c'è da duemila anni ed è la fonte del Serino, fatto nel periodo, diciamo, di Augusto, nel duemila anni fa. la tolgono ad ABC e la ridanno alla società Acque Campane, controllata al 50% da Caltagiru, 50% da 49% e 49% dalla Suez. Sì. Quindi l'hanno tolta da ABC che dovrà comprare l'acqua adesso da questa SPA privata. E nuca, sì, detto in questo modo. Va bene. Notar Tommaso, lei è stato sindaco di un piccolo comune, ricordiamolo, Campo di Pietro, è stato un po' il porta bandiera dei sindaci contestatori della proposta EGAM. A questo punto i ricorsi che fine fanno? Come andrete avanti? E poi mi appoggio alla palla che mi ha passato il sindaco Battista. Come si fa a revisionare o a rimodernare o a rifare tutte le condutture idriche all'interno dei comuni che costano? Ma parto dall'ultima. Sì. Allora, come si fa? Prendiamo esempio e copiamo. Non ci vuole un granché. Basta copiare i buoni esempi e le buone pratiche. Io invito i telespettatori, invito un po' tutti gli addetti ai lavori, invito i colleghi sindaci e invito soprattutto i consiglieri e gli assessori regionali a portare dei buoni esempi virtuosi di gestione su area vasta del servizio idrico integrato. Se ciò accade, o se ciò accadesse, io sarei il primo a deporre l'ascia di guerra, chiamiamola così. Quella è un ascia. Sì, ma viene vista in questo modo, ma è sbagliato, assolutamente sbagliato. Io non voglio entrare in polemica, anche se per me riesce molto molto facile, non ne capisco la ragione. Però, ad esempio, il comune di Campodipietra e il comune di Campobasso. Ha detto bene il sindaco, il comune di Campobasso spreca il 65% della risorsa idrica. Ma la colpa non la può addebitare probabilmente ad altri, se non a quelli che magari l'hanno preceduto in questa missione. Certo, però non hai i soldi per rifare le condutture interne. Allora, guardi Minicozzi, i soldi non li aveva neanche il comune di Campodipietra. E il bilancio di Campodipietra è, diciamo, in qualche modo simile a quello di… E come avete fatto allora? Abbiamo iniziato piano piano ad investire. Dal 2004 ad oggi siamo partiti dal 65%, anche noi siamo intorno al 20%. Ad esempio stiamo finendo di fare gli ultimi investimenti… Di perdita parliamo. Di perdita, sì, di perdita. Questo con una tariffa ferma al 1999. Quindi se noi invece andiamo in giro per l'Italia, dove queste ATO, autorità territoriali ottimali, sono partite già dalla legge Galli, quindi nel 94, beh, oddio, di buoni risultati non ce ne sono. Di esempi virtuosi non ce ne sono se non a scapito della tariffa. Ma perché questo? Perché è nella… proprio nella natura stessa del servizio idrico integrato. L'area vasta è una cosa che mi ha sempre appassionato. Ed alcune cose si possono fare con buoni risultati, altre no. Purtroppo no. Allora due processi della… Però mi scusi. No, voglio finire, voglio finire. No, no, voglio finire. Due processi del servizio idrico, captazione ed adduzione, uniti alla programmazione, possono essere tranquillamente gestiti su area vasta, dando dei buonissimi risultati. Purtroppo è nella natura stessa del servizio idrico invece… Area vasta che intende lei per area vasta? La regione o la provincia. Tutta la regione o la provincia. O la provincia. O la provincia. Cosa diversa invece è nella natura stessa appunto del servizio idrico, sono gli altri due momenti del servizio, la distribuzione e la depurazione. Perché questo? Perché ogni comune ha uno, due, tre, cinque, dieci serbatoi. Uno, due, sei, sette… Io so cerce maggiore che addirittura ha sei o sette depuratori. Quindi è nella natura stessa del servizio la polverizzazione che è naturale. Quindi è invece innaturale quello che si sta cercando di fare, centralizzare un qualcosa che naturalmente è polverizzato. E ripeto, gli esempi virtuosi ci sono oggi piuttosto dalle gestioni dirette dei comuni e diceva bene, l'ingegnere Pirlarella hanno praticamente reso illegittima la gestione in economia dei comuni. Beh, è un controsenso proprio in termini, è un controsenso in termini. La gestione in economia è la più virtuosa, quella più vicina ai cittadini, quella che costa meno, quella che è la famosa tre, efficacia, efficienza ed economicità. Però a proposito di atto, di ambito territoriale ottimale, devo dire che la legge Galli sicuramente non ha funzionato, ma all'interno dell'organismo i sindaci non hanno partecipato però. C'è questo dato, no? Ma l'abbiamo fatto bene, però io sono orgoglioso di non aver fatto decollare l'ato, perché avremmo già le tariffe che hanno... Quindi è stata una posizione proprio voluta e finalizzata. Ma certo perché documentandosi appunto sui dati, sui fatti e sulle storie già accadute, quindi diciamo esperienze già pagate da altri territori e da altri cittadini, perché imbarcarsi in un qualcosa che è fallimentare? E io invito, lo faccio sempre e ogni volta, me lo consenta anche stasera, invito i cittadini ad andare in rete a digitare gestore acqua Firenze, gestore acqua Siena, gestore acqua Frosinone, e andare a scaricarsi le tariffe, perché sono pubbliche, e vedere di fare il paragone con la tariffa che paghiamo oggi. L'ha detto, ce lo dica lei allora. Che differenza c'è rispetto alle nostre? Per recuperare anche i 6 euro, quindi parliamo di 10 volte tanto quello che paghiamo oggi. Quindi non una lira in più. Però tornando al fatto del Presidente Sindaco Battista, come fare a recuperare? Allora non ci vogliono queste forzature da parte di una balia che in qualche modo ci sostiene nella gestione del servizio idrico. A me non serve nessuna balia e come me penso la maggioranza dei sindaci. Ci vuole soltanto un po' di buona volontà e quindi chiamare i cittadini e dire Signori miei, ci vuole un investimento sulla rete, magari una tassa di scopo che dura 10 anni, efficientiamo le reti e praticamente torneremo però dopo l'efficientamento delle reti a pagare quello che pagavamo prima, non invece questo aumento costante nel tempo della tariffa e ci siamo trovati appunto con realtà dove l'acqua è partita come noi 30, 50, 60 centesimi al metro cubo ed è finita a 6 euro al metro cubo. Bene, dottoressa Stubbo deve aspettare un attimo perché abbiamo i nostri obblighi pubblicitari e meno male che ci sono, voglio dire con i tempi che corrono qui l'editoria è in ginocchio, ingegnere, pubblicità. Seconda parte di Moby Dick dedicata alla risorsa idrica, all'acqua, un buco nell'acqua, punto interrogativo, stiamo verificando che in qualche modo fino ad oggi dopo un anno e mezzo il buco c'è ancora. Il consiglio è rinviato al 13 di aprile, probabilmente il 13 si approverà questa legge che però mi sembra che potrebbe, come dire, essere approvata anche dai consiglieri di centro-sinistra che fino ad oggi si sono opposte, almeno da alcuni. Dottoressa Stumpo, referendum per l'acqua pubblica stravinto nazionale. Oggi ci troviamo a discutere ancora di possibilità di privatizzare una risorsa importante come l'acqua, importante e vitale direi, come forum per l'acqua pubblica. Qual è la vostra posizione sulla proposta di legge della Regione? Grazie per l'invito, per averci dato voce. La posizione del forum che segue con molto interesse gli sviluppi del Molise e aspettavano anzi proprio le notizie, domani c'è un'assemblea nazionale alla quale andranno riportate anche, mi chiedevano anzi il link alla trasmissione perché sono molto interessati. No, ma vanno in rete e lo trovano già in tempo reale. Dunque, la posizione del forum è quella di difesa assoluta del dettato referendario. Cioè 27 milioni di cittadini non possono essere ignorati. I giochetti delle leggi nazionali o europee irritano profondamente il cittadino comune. Noi l'abbiamo visto in tutti gli incontri, in tutte le mobilitazioni. L'abbiamo visto a Termoli, tra l'altro io voglio ricordare che Termoli è l'unico grande comune del Molise che gode di una pessima gestione privatistica da vent'anni. E l'impressione di chi vive questa battaglia, diciamo dalla parte non istituzionale, ma fa movimento dal basso, è un'impressione terribile perché abbiamo vinto il referendum, abbiamo ottenuto delibere all'unanimità al Consiglio Comunale di Termoli nel giugno del 2013 in cui veniva dichiarato in maniera inequivocabile che non era possibile fare alcun tipo di profitto e ricorrere a nessun tipo di gestione che non fosse totalmente pubblica e noi stiamo ancora in regime di prorogazio del contratto con la CREA che in questi 20 anni sicuramente non ha fatto grandi investimenti se non portare 5 milioni di profitti alla sua consociata francese, la CEA, e che ha avuto tra l'altro una gestione della depurazione che è sotto gli occhi di tutti perché la depurazione ormai a Termoli è un problema, ma veramente serio, già dall'anno scorso noi abbiamo situazioni in cui viene negato l'allaccio a famiglie che comprano casa nuova, che vogliono fittare la casa perché il depuratore non regge, ha superato la soglia, però non si è intervenuti né a livello comunale né finora a livello regionale, allora il cittadino che si vede costretto a pagare tariffe che senza voler fare nessuna valutazione etica devono necessariamente comprendere il profitto per il privato perché legittimamente il privato deve fare profitto, si incavola notevolmente per usare un eufemismo. Ma secondo lei con l'istituzione Legam le tariffe aumenteranno di parecchio? Noi siamo assolutamente contrari alla modalità con cui è stato imposto ai comuni, con cui è stato costituito già due anni fa senza ascoltare assolutamente il forum dei movimenti per l'acqua che dispone, io voglio dirlo pubblicamente, di competenze tecniche notevolissime. Cioè noi abbiamo a disposizione esperti in grado di discutere dal problema fiscale a quello economico, a quello delle fideiussioni, a quello delle maestranze fino al problema di come estendere una legge. Abbiamo offerto queste consulenze incessantemente dal 2014 ad oggi, abbiamo chiesto audizioni ultimamente alle commissioni che discutevano questo testo di legge che probabilmente aveva ragione il consigliere Totaro, così com'è non consente la difesa dell'acqua pubblica, gli cittadini vengono sistematicamente ignorati. Quindi non avete potuto nessun confronto voi con la parte politica, con la giunta commissione? Assolutamente, se non con consiglieri singoli che ci hanno ascoltati e alcuni degli emendamenti in discussione sono i nostri, e vertono essenzialmente sul fatto che non si fa, come diceva lei, alcun tipo di riferimento alla gestione totalmente pubblica, quindi si apre la porta a qualunque interpretazione, e soprattutto il fatto che manca quella che è la forza di Acqua Benecomune Napoli, un comitato di controllo trasparente, partecipato, con poteri effettivi di controllo, nel quale siedono i cittadini, i rappresentanti del forum, i rappresentanti delle istituzioni. Noi, vedendolo da questa parte, vediamo una chiusura totale, un fastidio, ecco, lo voglio dire chiaramente, un fastidio nell'incontrare e nell'ascoltare il cittadino che viene considerato assolutamente un intraccio anche quando ha conquistato sul campo conoscenze, competenze e ha stabilito un rapporto con i cittadini, che fino a prova contraria sono i datori di lavoro dei signori che siedono in regione. Noi potrebbero essere di supporto logistico alla politica e doveva decidere. Supporto di livello molto alto, ma ci siamo sentiti dire, per esempio dal sindaco di Termoli, che lui non crede nel pubblico, lui preferisce il privato. A questo punto lei capisce che... È chiaro, quando uno lo dice chiaramente... Gli abbiamo anche detto che a quel punto uno non si candida al sindaco che rappresenta l'epitome del pubblico, o no? È una contraddizione in Termoli? Certo. Poi ascolteremo in qualche occasione anche il sindaco di Termoli. Ma per quanto riguarda la gestione interna al comune, mi sembrava che volevano cambiare gestione un po' di tempo fa, non è successo niente. Assolutamente. Dovete... C'è la proroga perché rifiutano... Sono quattro anni che siamo in regime di prorogazio... Il sindaco è stato da poco. Infatti abbiamo combattuto con due... I sindaci precedenti. Igeri Pillarella... A proposito di... Come dire... Di gestione dell'acqua, no? Lei gestisce oggi... Moliseacqua è una grande azietta... Io... Intanto le faccio la domanda... Se per i Basso Polisi, Termolesi e non solo il Polisano centrale verrà attivato davvero... No... Sono anni che si dice... Attiveremo... Attiveremo... Quella... Quella... Infrastruttura per il Basso Molise è fondamentale... Credo... Almeno... Potranno bere acqua... Acqua ottima... Perché la nostra è acqua ottima... La seconda è molto più importante... Io... Ho ascoltato oggi... Mi hanno riferito... Che Massimiliano Scarabè... Il consigliere regionale del PD... Capogruppo oggi del PD... Ha denunciato in aula... Che... Moliseacque... Avrebbe un debito... Di 32 milioni di euro... Con... Era... Con... Era... È vera questa notizia... È vera questa notizia... È vera questa notizia... Che ha fornito... Era... Energia elettrica... E perché c'è questo debito così grosso... 32 milioni... Perché i comuni non pagano... Che succede a Moliseacque... Allora... Proviamo a tornare un attimo indietro... A spiegare come funziona Moliseacque... Moliseacque... In effetti è un soggetto che... Diciamo... Si ferma soltanto alla prima parte... Come dicevamo prima... Quindi... Capetazione... L'acqua... La adduce... E la trasporta fino alla soglia dei comuni... Quindi la consegna dei comuni... La solleva in molti casi... In molti casi... Ha toccato esattamente uno dei punti critici... Uno degli elementi determinanti nel bilancio... Diciamo... Come parte passiva... E proprio sono gli oneri di sollevamento... La particolare struttura... La particolare situazione... Anche degli acquedotti e delle sorgenti... Costringono a fare dei sollevamenti... Che sono molto merosi... Oltretutto... Io credo che un valore molto importante... Che crea questa disfunzione finanziaria... È legata al fatto delle perdite... Perché è evidente che dobbiamo sollevare molta più acqua... Per avere poi la possibilità di fornire... Un terzo... Un quarto di quell'acqua... Va a buon fine... Va nelle case dei cittadini... Quindi sicuramente... Una delle prime attivazioni è... Abbattere le perdite... Mi sembra che siamo tutti d'accordo... E in questo dicevo prima... Al sindaco... Sta facendo una sua parte... Perché grazie al programma di... Al fondo di sviluppo e coesione... Ha messo in campo... In moltissimi comuni... Che hanno potuto aderire... Un'opportunità veramente significativa... Di modificare le reti... Di aggiornarle... Di monitorarle dove possibile... Quindi anche attraverso obiettivi di servizio... Alla fine di questo giro... Che insomma si concluderà l'anno prossimo... Avremo un significativo abbattimento di perdite... E quindi evidentemente... Una minore fornitura di armi... Ma avete anche molti crediti con i comuni... Esattamente... Certo... E poi c'è la questione interregionale... C'è la questione interregionale... Tutta una serie di operazioni... Sulle quali dobbiamo incidere assolutamente... Quindi... Il tema però... Al di là di quello finanziario... Che è certamente uno sbilancio... Fra debiti... Ma anche crediti... Che sono sostanzialmente... Dello stesso ordine di grandezza... E che comunque sono tutti in corso di riallineamento... Perché... Da questa situazione critica... Parlava anche della regione Campania... In questi giorni arriverà un grandissimo bonifico... Bonifico che insomma... Abbiamo seguito e che ci riporterà... Quanti milioni di euro ingegneri? Credo che complessivamente sia poco più di 4... Ma dovrebbe arrivare 2, 2, 2,5... Nei prossimi giorni... Che siamo riusciti a riprenderci... Che insomma... Che la Campania è la più esposta? Ci sono altre regioni? La Campania è la più esposta... Perché la Vuglia... È... E' una fornitura molto minore... C'è poi tutto il discorso della diga di Occhito... Che gestisce in altro modo... Però volevo dire... C'è una parte incomprimibile... Che sono evidentemente dipendenti... C'è una parte invece fortemente... Sulla quale si può intervenire... Che è quella legata ai costi di esercizio... Quindi al sollevamento... E alla fornitura... Proprio ai metri cubi complessivi di acqua... Che riducendoli... Avendo lo stesso effetto... Per riduzione delle verdi... Avremo un grandissimo vantaggio... Volevo... Se mi consenta dire anche altre due cose... Sugli elementi che sono affiorati... Primo... La partecipazione... Nella legge... Uno degli ultimi articoli... Viene istituita comunque la figura della consulta... Però a legge ultimata... A legge approvata... Nella fase di stesura della legge... Ma comunque... Credo... Non è una presa in giro... Non è una presa in giro... Non è una presa in giro... È un elemento per consentire ai cittadini di partecipare... Comunque... Poi stiamo parlando di un'attività che sarà nelle mani dei comuni... Quindi già io penso che i comuni... Proprio come espressione politica... Sono più vicini ai cittadini... Quindi la vedo anche in questo senso... Altro elemento è la tariffa... Questo mi serve qualche minuto perché è un mondo... C'è il rischio... No... Vero... La tariffa è un sistema molto bloccato... Allora esiste un signore, chiamiamolo così... Che è l'agenzia del gas e delle energie elettriche... Che da pochi anni è diventata anche l'autorità... L'agenzia... L'autorità... L'autorità... L'autorità dell'Europa... Pregata dalle utilità... Però voglio dire... In questo momento... Loro... Quindi rispondono a loro... No... Però aspetta... Non è così... Paradossalmente... Perché io ci sono andato e... Ho fatto anche la battuta... Si va avanti a furia di simboli dell'antica letteratura greca... Che io ricordo solo come studi classico... Quindi psih e teta... Queste sono le lettere su cui si ragiona... Il tema è che la tariffa non è stressabile nella misura che dicevate voi... Cioè in grandi quantità... Perché? Perché parte dal costo storico sostanzialmente... Utilizza un tool... Loro lo chiamano così... Molto complicato... Che tiene conto... Del personale... Degli investimenti... Addirittura dell'indice di morosità... Quindi anche qui i sindaci... Se sono bravi... Abbassando la morosità... Migliorano la tariffa... La tariffa non è particolarmente aumentabile a dismisura... Perché parte appunto da un valore storico... Quindi paradossalmente noi che abbiamo la tariffa più bassa d'Italia... Su questo non c'è dubbio... Non possiamo auspicare a aumentarla troppo... Perché c'è comunque un capo limite che è l'8,50%... Oltre il quale non si può aumentare la tariffa... Quindi parliamo secondo me... Per come è strutturata di possibilità di aumento di tariffa... Veramente limitati... Su questo ne sono solamente... Però diciamo Legam ha le sue esigenze organizzative... Deve poter funzionare... Un po' di personale... Un po' di amministrativi... Voglio dire... Le riunioni dei componenti del Consiglio... Credo che nella legge ci sia scritto che non sono previsti rimborsi... Non sono previsti oneri... Quindi ci sono molti abbattimenti... Credo che sia veramente una cosa ridotta al minimo... Io non penso che incida se non nell'ordine di qualche centesimo... Assolutamente... Ma l'ottimizzazione... Ho dato maggiormente d'accordo... No, no, però... Prima parlavamo di questo fatto... Il quarto elemento tecnico... Parliamo del mondo tecnico... Che è quello della gestione capillare, singolare... È proprio tagliata per questo... Questo si chiama sistema diffuso... L'acqua... E non è possibile in alcun modo... Vuol dire che... Soltanto l'ottimizzazione con i grandi numeri... Che oggettivamente potrà portare dei vantaggi... Riattribuendo il personale... Pensate pure... Ogni comune comunque dedica delle persone... Probabilmente messo in re... Ma il 1,5% massimo all'anno... 10 anni sono l'85%... Ho parlato di valore massimo... Non è... Poi ci sono gli investimenti... Non è... Poi ci sono gli investimenti... Non è automaticamente applicabile... Non è assolutamente così... Ma perché questo accanimento sull'acqua al recupero dei costi integrali in tariffa... E poi qualcuno magari ce lo spiegherà... Come d'altronde poi non dipende da una volontà europea... L'Europa si è espressa con la risoluzione dell'8 settembre... Parlamento europeo, sì... Bravo... E parliamo un po' due anni fa... Sì... In seduta plenaria... Ma no, il giorno stesso me l'hanno mandata... Ma già lo sapevamo prima... In seduta plenaria... Tre pagine per richiamare tutte le normative direttive eccetera... E poi dice in alcuni punti appunto... Di non interrompere il ciclo di restituzione ai sindaci della gestione dell'acqua... E qui torna in ballo la polverizzazione perché la vogliono polverizzata in Europa... E poi di intervenire... Sollecita la Banca europea per gli investimenti... Con prestiti a lungo termine e a tasso agevolato... Quindi questo è il quadro europeo di riferimento... E non quello che diceva il sindaco Battista a cui ci dobbiamo adeguare... E poi magari se ci dice qual è questo quadro normativo... Io ne sono ben felice perché oltre alla direttiva 2000... Poi ci deve lasciare... Però l'ingegnere Pillarella... L'acquedotto molisano centrale... Quello stavo dicendo... Ci sono state delle vicissitudini legate... Diciamo a delle verifiche dove fa la Corte dei Conti registrazioni di gazzette... Adesso è di nuovo operativo... Per Tronchi sta... Non so se l'avete saputo... Va avanti... Ma viene consegnato attraverso dei collaudi per lotti... E quindi viene già immesso... Ogni volta che un pezzo viene immesso significa sicuramente un risparmio... Fra poco arriverà il momento di Termoli... Possiamo dare la data per Termoli... Io non sono in condizioni di darlo perché ovviamente non ne ho la... Però credo che sia in minera... No perché lei non è un politico... No 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 no... Io voglio darlo... Lo dirò personalmente alla signora quando ce l'ho... Il problema della gestione privata... Lo risolve notevolmente però perché è tutta un'altra acqua... Però garantisco acqua ottima che l'acqua... Si abbatte il costo della potabilizzazione... Certo... Certo... Allora... Sindaco Presidente Battista ci deve lasciare... Però insomma qui è stato chiamato in causa... Soprattutto da Notar Tommaso... E poi conclude come vuole lei... L'essere chiamato in causa in questa storia... Quando il Consiglio regionale che deve decidere... Di cosa stiamo parlando... Cominciamo un attimo a parlare pure di tariffe... Le tariffe sono bloccate... Sono bloccate per effetto di una norma dello Stato... Il Campobasso copre l'80% del costo dell'acqua... Voglio dire... Se dovesse entrare un altro gestore pubblico... Comunque sarebbe costretto ad aumentare... Se la norma nazionale si modifica... Dovrebbe aumentare almeno del 20% il costo dell'acqua... Perché sul costo dell'acqua... Incide anche il costo dei dipendenti... E di tutte le manutenzioni che vengono realizzate... Sulla rete etrica... Allora... Dobbiamo intenderci anche sulla questione delle province... La provincia che va a sostituire l'Egam... È una cosa che probabilmente si può realizzare... Ma resta comunque risolta la questione del gestore... Come bene diceva Massimo Romano... Allora la gestione... Da chi viene realizzata... Ritorniamo a capo... Di nuovo... Allora chi la fa? Molise Acque... Un soggetto pubblico privato... O un soggetto privato... Quindi ritorniamo comunque... Al punto di partenza... Ora comprendiamoci bene su questa storia... Perché il ribadirlo... Non significa farlo soltanto qui... E non farlo in altre sedi... Comune di Campobasso... Così come tanti sindaci... Posso dire quasi la totalità dei sindaci... Vogliono che l'acqua resti pubblica... Su questo non si discute... Non si può discutere... Perché quella è la decisione che è venuta da tantissimi consigli... Però la legge così come è costruita... Non dà questa garanzia... Questo è il punto che diceva anche Totoro... Nella lettura... Certo non la fa lei la legge... Lo capisco bene... Nella mia lettura della legge... Non dà la garanzia al 100%... Che l'acqua possa essere gestita da Molise Acque... Allora il legislatore si organizzasse... Se è quello l'unico dei problemi... Si organizzasse a risolvere questo problema... Perché se invece il problema è comunque legam... È un altro tipo di ragionamento che dobbiamo fare... Allora... Va bene la gestione come si realizza oggi? Sì o no? Se no... Deve essere costituito un altro soggetto... Il soggetto politico è legam... Può essere legam... Possono essere le province... O un altro soggetto... Ma il punto sul quale porre l'attenzione... La gestione chi la realizza? È chi realizza la gestione diretta degli acquedotti... Allora rispetto a questo... Il consiglio regionale può dare eventualmente... Delle certezze per far rimanere l'acqua pubblica... Però il problema non è legam... Perché io tra le altre cose ci tengo a ripetirlo... Nel discutere nel cal di EGAM... Ho voluto puntualizzare che il consiglio di amministrazione dell'EGAM... Compreso il presidente... Non devono avere alcun rimborso... Non devono poter godere di nessun beneficio economico... Affinché la gestione politica... Adesso viene la battuta... Lei lo dice perché l'hanno fatto fuori da presidente dell'EGAM... Travaglini ha capito... Nessun gettone... Lei che mi conosce sa bene che i miei ragionamenti non li faccio per portare dei benefici alla propria persona... Non voglio fare il presidente dell'EGAM... Mi basta già tantissimo la presidenza della provincia di Campobasso... Ma ritengo che gli enti di secondo livello... La prestazione politica all'interno degli enti di secondo livello... Può benissimo essere realizzata gratis... Senza avere un riscontro di tipo economico... Tutti gli enti di secondo livello della regione molise... Non devono avere spese legate alla politica... Benissimo... Allora noi salutiamo il sindaco... Grazie... Complimenti e bocca al lupo per il ritorno a telemonica... Crepi il lupo ovviamente... C'è la balena che insomma dovrebbe essere più forte... Grazie a Battista... Vediamo... Io voglio fare un duetto adesso tra Massimo Romano e l'assessore per il Paolo Nagli... Me l'avete collegato? Non c'è? Non risponde... Allora... Massimo Romano... Stiamo sviscerando un po' tutto questo progetto... Un po' caotico per la verità... Sulla legge per l'Egam... Quali altri dubbi ha ancora lei rispetto al percorso che è stato tracciato? Volevo... Mi interrompo... Volevo chiedere una cosa a Battista prima che ci lascia... Ma voi siete stati... Lo dà chi parla... Siete stati coinvolti sulla preparazione della legge... Sullo studio... I sindaci... Noi siamo stati coinvolti... Sì... Noi siamo stati coinvolti... In modo particolare il Calle... Cioè... Quel soggetto che... Analizza e valuta le leggi prima che ritornino in consiglio regionale... Abbiamo fatto anche una riunione all'interno della commissione competente... Abbiamo sollevato alcune questioni... Abbiamo sollevato alcune questioni... E dopo queste riunioni... Sedi 18 sindaci mi pare si sono ribellati... Ok... Cioè... Ah era poco tempo... 10 giorni... Va bene... Grazie... Grazie Presidente Siddar... Allora Massimo Romano... I dubbi ancora che lei ha... E quali sono gli sviluppi giudiziali della vicenda... Perché adesso siamo al Tar... Vi ha dato ragione... Immagino che hanno fatto opposizione al consiglio di Stato... No... La regione non ha proposto appello... Non credo lo proporrà... Hanno dato... Diciamo... Hanno preso atto della decisione del Tar... E la prova è il fatto che l'argomento è stato riportato appunto in consiglio regionale... Io volevo chiarire un aspetto... Cioè che ci sia un problema legato a determinati comuni che hanno delle perdite vistose... Insomma magari istituendo Legam il problema delle perdite del 65% si vanno a risolvere... Perché se fosse così allora io sarei il primo ad iscrivermi diciamo nel novero di quelli favorevoli a Legam... Purtroppo non sarà così... Perché evidentemente anzi si creerà un problema perché se c'è un argomento sul quale la prossimità riesce ad essere risolutiva è proprio quella della gestione dell'acqua... Perché lo abbiamo visto proprio girando il territorio e l'esperienza dei sindaci virtuosi per così dire lo dimostra... La rete comunale la conoscono pochi diciamo fontanieri del comune... Quelli che fondamentalmente ci lavorano ci mettono le mani da anni... Quelli storici... Che riescono ad intervenire lo diceva proprio Notar Tommaso precedentemente ma anche altri sindaci... Con tempi di reazione soprattutto per quei comuni che si sono dotati di telecontrollo praticamente diminuti... Quindi riescono ad individuare la perdita un po' grazie alle strumentazioni tecnologiche del telecontrollo... Un po' grazie proprio all'esperienza e al patrimonio di conoscenza di questi fontanieri riescono ad intervenire. Dio ce ne è liberi a pensare a cosa potrebbe accadere se ad intervenire dovesse essere una società... Perché poi si andrebbe chiaramente ad un'esternalizzazione che rispondesse appunto all'Egam... E magari con i tempi di reazione che ha, non lo so, per altri enti... Penso a quello che si verifica sui consorsi di bonifica... Dove appunto non si riescono a garantire servizi minimi agli agricoltori in termini né di pulizia dei canali... Né tantomeno appunto dei servizi di bonifica minimi... Ora che ci siano dei problemi fuori discussione... Faccio due esempi... Boiano è uno dei territori, dei comuni che ha le maggiori sorgenti quindi di approvvigionamento di acqua... Alle 10 di sera si toglie l'acqua... Ci sono interi quartieri, intere zone che hanno questo problema dove il comune non riesce neppure a dare un'informazione tempestiva su quando sarà interrotto il flusso idrico... Quindi ci sono problemi infiniti... E' un problema clamoroso che riguarda la vita delle persone... Ma ne cito un altro perché non vorrei essere tacciato diciamo di fare campanilismo con il mio paese... San Martino in Pensilis... Continuano ad avere problemi enormi proprio perché ci sono continui e continue interruzioni di flussi idrici... Anche l'agricoltura subisce lo stesso problema perché proprio i consorzi di bonifica talvolta intervengono nel bloccare l'erogazione idrica... Allora quando ad esempio i consorziati non sono in grado di pagare i contributi consortivi... Questioni tecniche per niente sono questioni che riguardano la vita o delle famiglie oppure delle aziende agricole... Come si risolve il problema? Facciamo legame del risolto? Assolutamente no... Io credo che dobbiamo avere un respiro un po' meno... Con rispetto parlando lo dico un po' meno provinciale... Cioè il problema non è certamente il gettone di presenza per il componente del Consiglio di Amministrazione... Che peraltro ci sarà perché è chiaro che c'è già un appetito enorme relativamente alle poltrone diciamo così... Che dovranno essere assegnate di questo ente però dobbiamo alzare un po' il livello... Cioè non facciamo la parte di quelli che vivono sotto la campana di vetro e continuano ad illudersi su delle diciamo mistificazioni obiettive... Cioè in tutta Italia è in atto un processo di privatizzazione dei beni pubblici... L'acqua è il più nobile di questi perché è quello che in assoluto garantisce dei profitti più straordinari... Qual è il problema? Al di là e al netto delle difficoltà tecnico-giuridiche nell'impostare la legge... Se tu crei anzi le condizioni perché... Un soggetto cioè Moliseacque si occupa di captazione e adduzione e un altro soggetto... Legam o chiamiamolo pure Giuseppe si occuperà invece di altri segmenti... Con tutto che il sindaco dice e ribadisce che l'acqua deve rimanere pubblica... Che si chiami sindaco di Campobasso che si chiami sindaco di Montefalcone... Al di là della volontà se tu non crei i presupposti per una gestione che regga dal punto di vista economico... Tu creerai uno squilibrio che non potrà che essere ripianato da un privato... Ora per chi ha un minimo di esperienza... Guardiamo a quello che accade sulla sanità... Ci hanno rubato la sanità pubblica... Mica dicendo dobbiamo darla ai privati per farli arricchire... Oppure per consentire a questi privati di poter diventare dei potentati elettorali e politici... Dicono bisogna darla ai privati perché garantiscono efficienza e qualità... Perché c'è l'eccellenza... Dobbiamo darla ai privati perché c'è l'eccellenza... E scusa c'è l'eccellenza... Giovanni Minicozzi che è contro la sanità privata e contro l'eccellenza... Cioè c'è una mistificazione delle parole che ricorda 1984 di Orwell... La guerra è pace, la libertà è schiavitù... E' così... Sull'acqua si sta verificando purtroppo la stessa cosa... Tutti sono per l'acqua pubblica... Dopodiché se c'è l'ente idrico Molise Acque che ha un debito accumulato nel corso degli anni che è clamoroso... Obiettivamente tu non stai creando con tutti gli sforzi che sono convinto che l'attuale diciamo... Nel caso di specie l'ingegnere Pitarella starà profondendo... Ma se ci sono condizioni di debito strutturale rispetto alle quali non si riesce a porre rimedio... Lo dico anche perché professionalmente ho assistito dei comuni incontenzioso con l'ente idrico... È evidente che tu sarai sottoposto... Cioè arriverai alla canna del gas a dover dire chi paga... Cioè facciamo ripianare i cittadini facendogli fare un bagno di sangue... Oppure ci dobbiamo affidare a un ente che per esempio... Un eventuale creditore nei confronti di Molise Acque... Ci abbona il debito però gli diamo la gestione... Proprio Massimo Pillarella su questo che sta da poco ovviamente a Molise Acque... Non da molto... È un dubbio che è solto anche a me... Quando ho letto la notizia e poi l'ho verificata... Di 32 milioni di credito da parte di Era Ambiente... Non è che Era Ambiente possa guardare con attenzione... Un occhio particolare all'acqua molisana... In cambio dei 32 milioni di credito? Assolutamente no... Io tra l'altro volevo dire che... Credo che sia importante spiegarlo che Molise Acque... Entrando in questa operazione... Entrerebbe nel sistema idrico integrato... Cioè sarebbe tutta la filiera... Non soltanto... Probabilmente è tutto un altro scenario... Tutto un'altra opportunità... Anche nella distribuzione quindi? Certo... Il soggetto gestore evidentemente è quello... Che è quello che hanno proposto i sindaci... Il soggetto gestore fa il sistema idrico integrato... Quindi il sistema idrico integrato è tutto il ciclo delle acque... E poi non dimenticherei... Per quanto bene vogliamo all'acqua... Il fatto che abbiamo messo... Stiamo facendo una carta della qualità... Ma poi c'è una premialità... Anche sulla possibilità di riusarla... Lo stavo raccontando prima... L'acqua come bene... Che non necessariamente è rinnovabile all'infinito... Può essere riusato... Possiamo inventarci qualsiasi cosa di virtuoso... Per rendere veramente migliore questo componente così forte... Escludiamo che l'ambiente possa mettere le mani sull'acqua... Escludiamo un soggetto... Fanno un altro mestiere... Fanno un altro mestiere... Fanno soldi soprattutto... Comunque il mestiere di fare soldi... Certo è ironico... Perché... Quello fa... Romano devi completare... Volevo dire proprio questo... Tra le proposte che i sindaci avevano indirizzato alla regione... Purtroppo inascoltati... C'era proprio questa... Cioè quella di andare nella direzione di ricreare tutti i segmenti della filiera... Per rifare l'unicità... Diciamo così... Di tutti i segmenti industriali... Dalla captazione alla distribuzione... E anche semmai alla depurazione... Depurazione... E questo è un... E anche l'utilizzo... Questo è un obiettivo su cui... Diciamo... Un ragionamento si sarebbe potuto... O si potrebbe intavolare... Però anche qui il diavolo si annida nei dettagli... Non per voler fare polemica... Ma perché è così... Se oggi fosse passata la legge del Legam... Questo obiettivo sul quale astrattamente si può condividere... Non sarebbe stato centrato... Perché l'impostazione dell'odierna riforma... Cioè ragionando a bocce ferme... Non lo prevede... Cioè prevede un'ipotesi potenziale che si potrebbe realizzare... E qualora si andasse poi a fare una riforma anche di Moliseacque... Che però dobbiamo farla dopo... Allora... Le cose fatte a... Diciamo... A spezzoni... In modo anche un po' raffazzonato... A mio avviso creano proprio quei presupposti di confusione istituzionale... Su cui si annida la possibilità che intervenga il privato... Con delle strutture finanziariamente enormi... Con delle capacità di penetrazione lobbistica... E anche all'interno dei gruppi politici... E soprattutto con la capacità di arrivare con soluzioni risolutive... Quindi da questo punto di vista... C'è un'apertura nel creare le condizioni per una gestione unica... Affidata ad un soggetto pubblico e interamente pubblico? Lo si deve fare prima... Non si può fare una legge fatta male... Con più equivoci che... Quindi con più ombre che luci... Dicendo poi... No però poi lo faremo... Perché francamente ritengo che... Lei si è occupato centinaia di volte del problema dei costi della politica... In campagna elettorale dicevano... Dimezzeremo gli stipendi... C'è qualcuno che aveva... Addirittura ha detto... Faremo cadere la giunta regionale... Se come primo atto non faranno il dimezzamento dello stipendio... E non è successo niente... Ha fatto esattamente il contrario... Quindi l'hanno fatto con quello... Temo che possano farlo... In zintesi... Fidarsi è bene... Non fidarsi è meglio... Dice Massimo Lopardo... Complimenti per la sigla... Prego... Poi tocca a Nicola... Rimbadire brevemente che... Questo è proprio lo stato d'animo nostro come associazione e come forum... Noi non ci fidiamo per niente... Ma per niente delle modalità con cui è stato portato avanti dall'inizio... Già dal 2014 questo discorso... Quando si cominciò a parlare di EGAM... Il fatto stesso che è comparsa all'improvviso questa bozza sul tavolo dei sindaci e del forum... Dieci giorni di tempo per dire cosa ne pensate... Poi siete obbligati ad aderire... Insomma era una chiara presa in giro... Il fatto che il governo nazionale si muove pesantemente in maniera della svendita di tutti i beni comuni... Non fa che confermarci nei timori che esprimeva Massimo... Cioè noi siamo sicuri che il rifiuto di introdurre... Come noi abbiamo chiesto nelle audizioni con i consiglieri regionali... Il rifiuto a introdurre proprio nella formula iniziale il riferimento all'ente unico... Noi facevamo proprio riferimento a Molise Acque con lo statuto modificato... Che noi abbiamo provveduto ad elaborare e a consegnare già due anni fa... Ed è stato ovviamente nemmeno guardato... È un rifiuto che parla chiaro... Cioè deve stare nell'inizio della legge l'intenzione di gestire in un certo modo... Perché parlare di gestione pubblica... Perché l'acqua è pubblica... E poi si fa la SPA... Che è diritto privato... Il professor Lucarelli, consulente di ABC Napoli... Già ai tempi del referendum ci ammonì... Non vi fidate di chi vi parla di gestione privata... Ma introduce... Di gestione pubblica... Ma introduce il diritto privato... Perché è la fine... È il cavallo di Troia con il quale entrano... Quelle che adesso si chiamano multiutility... E dobbiamo fermarci per l'ultima pausa... Poi ovviamente tocca a Nicola Lanza e a seguire gli altri... Io voglio come dire... Pregare l'assessore per Paolo Nagni... Non so se sta staccato o l'Omprede... Sarà in un posto per l'Omprede... Di contattarci... Perché non è giusto lasciare qui solo... L'ingegnere Massimo Villarella... Che si sta difendendo... Devo dire... Ma l'assessore si nasconde... Avevamo concordato un suo intervento telefonico... E le dirò... Faremo un bel duetto con Massimo Romano... Assessore ci contatti... Noi continuiamo a contattarla... Pubblicità! Ultima puntata... Ultima parte di Moby Dick... Non ultima puntata... È appena la seconda... È appena la seconda... Appena ricominciata la nuova serie... Doveva intervenire... Sollecito Nagni ovviamente... Credo che qualcuno... Possa avvisarlo per farci chiamare... Noi continueremo a chiamarlo fino alla fine... Allora... Nicola Lanza... Dottor Lanza... I movimenti che si sono... Come dire... Schierati dalla parte dell'acqua pubblica... Che hanno... Hanno vinto un referendum... Hanno coinvolto un milione di italiani... Come proseguiranno questa battaglia... Rispetto alla legge regionale... Se il 13 aprile il consiglio regionale varierà questa legge... Con i dubbi che esistono sulla gestione privata possibile... L'acqua nonostante tutti dicono che la vogliono pubblica... Che farete voi? Beh... Dando ringraziamo ai sindaci coraggiosi... E chiamolo sempre così... I sindaci coraggiosi... Da Gingino D'Angelo... A Peppino... Ai 18 sindaci che sono stati seguiti da... Oggi c'erano dei sindaci davanti al consiglio? Oggi un po' di sindaci c'erano... C'è stato un appello dove hanno aderito molti comuni... Anche se non fisicamente presenti... Diversi comuni molisani... Circa una trentina... Dei 136 comuni molisani... C'è sempre un problema... La partecipazione attiva è complicata in questo momento storico... Ed è un problema generale... E' storico... E' storico il problema della partecipazione e della mobilitazione... La partecipazione passiva però è attiva... I referendum l'hanno dimostrato... Per cui c'è una volontà popolare che comunque c'è... E che andrebbe rispettato... Quello che la politica non vuole ancora comprendere... Probabilmente è che la società è cambiata... La società chiede partecipazione... E quando la società chiede partecipazione... Non chiede partecipazione perché ha bisogno di primeggiare... O di farsi vedere... Chiede partecipazione per dare una mano a gestire meglio la cosa pubblica... Alla politica... Un po' anche perché non si chiede più tante della politica... In generale dico che non è molise... Il forum dell'acqua... Che hanno una grande esperienza tecnica... Si mette a disposizione della politica... La politica decide di non accettare l'audizione... Vuol dire che non c'è volontà politica... Allora le cose le dobbiamo chiamare col proprio nome... Nel Molise... Allora non c'è la volontà politica... Affinché l'acqua resti pubblica... L'acqua deve restare pubblica a parole... E quando usano la parola società in house... È la dimostrazione che la volontà politica non c'è... Perché la società in house è una società di diritto privato... Questo è il punto politico che noi sottoponiamo all'attuale maggioranza del Consiglio regionale... Se assumessero la responsabilità di questo... Che cosa faremo noi? Il 7 intanto saremo in piazza sulla sanità... C'è una grande manifestazione europea... Sarà un incontro di forze politiche... Cittadini, attivisti... Cittadinanza ampia... E continueremo a utilizzare i sistemi che possiamo utilizzare... Noi non abbiamo rappresentanza istituzionale... Noi voglio dire... A proposito di questo pensate di crearla una vostra rappresentanza istituzionale in futuro... Ai vari livelli istituzionali? Allora, per la regione si vedrà, in Europa già ci siamo... Perché voglio ricordare, tra l'altro, che nel 2014 un appello di intellettuali italiani ha portato in Europa tre europarlamentari... Di quali due, nello specifico di questi, hanno creato, insieme a tante forze, anche il Movimento 5 Stelle... La S.P.D.E., la sinistra europea... Hanno creato un intergruppo che sta... Proprio quest'anno... In regione qui hanno creato un intergruppo... Certo... Tre persone, sì, no, è vero... In Europa provano a modificare, diciamo, le normative dell'acqua pubblica... Qui non lo so che cosa si prova, diciamo... A proposito di istituzioni, brevemente, poi passiamo agli altri... Ma lei, così, con la sua associazione, voterebbe Massimo Romano candidato presidente, per esempio? Allora, io... Ci devi pensare? No, no, assolutamente no, anche perché con Massimo nel 2013 abbiamo avuto modo di incontrarci e di discutere, voglio dire... Per cui io non ho nessuno... Lui, in mezzo... Massimo lo sapete esattamente io come la penso... Io voterei chiunque come presidente su un programma condiviso... Ok, risposta esatta, possiamo dire, allora... Eh, Rodal Tommaso, continuiamo con l'ECAM, torniamo all'ECAM. Lei ci ha illustrato stasera la ricetta per eliminare le perdite, ma le risorse per fare quell'operazione che ha fatto a Campo di Pietro, che ha ridotto al 20-25%, mi sembra, no? Quindi è un dato ottimale, tutto sommato. Chi gliel'ha date? Allora, in parte dalla Regione, sicuramente... Ha fatto lei, ha fatto pure il manovare, mi risulta che lei va pure a chiudere l'acqua qualche volta. No, diciamo che ci sono stati dei finanziamenti e noi abbiamo scelto di investire nell'idrico. Anziché fare campi sportivi in erba sintetica o palestre a noi mancano, abbiamo scelto di efficientare la risorsa idrica. Nasce da una esigenza e quindi da qui io dico sempre che per migliorare il servizio non ci volevano le bacchette magiche, come invece qualcuno stasera voleva far credere, perché l'ECAM non sarà una bacchetta magica, ma sarà una bacchettata ai cittadini, ma bisognava mettere in piedi dei meccanismi semplici, banali, oserei dire. Ad esempio la premialità e la penalità, più sprechi l'acqua più la paghi. Questo avrebbe fatto modo che tra i sindaci la sfida iniziasse per davvero. Invece io credo che sia stato un progetto che parte da lontano questo, cioè ci hanno lasciato fare i nostri comodi per poi dire siete incapaci e adesso cerchiamo di mettervi in riga. Questo è quello che è accaduto. E quindi noi siamo stati mossi, dicevo, da un problema di carattere proprio pratico. Noi crescevamo demograficamente, non avevamo acqua a sufficienza per poter garantire questo trend positivo. Poi grazie a Dio è arrivata la crisi e ha bloccato tutto, però nel frattempo ci siamo attrezzati invece per gestire meglio la risorsa idrica. E quindi quell'acqua che negli anni 70, con poco più di mille abitanti di Campo di Pietra, l'acqua mancava, la chiudevano di notte, noi oggi praticamente abbiamo l'acqua a sufficienza anche per altri due Campo di Pietra. Quindi è facile farlo. Ci sono riuscito io che non ho studiato la materia, credo che ci riesca chiunque. E quindi questo disegno, diciamo, di mettere intorno ad un unico soggetto, con una tariffa unica tra l'altro, e sulla tariffa unica ho un'altra questione, io adesso sarò chiamato, e quindi i miei cittadini saranno chiamati con questa tariffa unica a partecipare all'efficientamento di chi invece ha pensato bene di fare altro con quelle risorse. Alle verdi di Campo Basso. Qualcuno diceva, vabbè, però, insomma, poi magari possiamo parlare di strade, tu ce l'hai buone, un altro no, ho capito, ma noi abbiamo stabilito delle priorità con i finanziamenti e abbiamo fatto quello, abbiamo efficientato le reti, altri hanno fatto altro e oggi si trovano altro, non si trovano le reti. Quindi, diciamo, ognuno ha fatto delle scelte e quindi noi per questo, in qualche modo, reclamiamo la nostra autonomia. Io sicuramente non mi sento tranquillo con l'Egam, poi lasciatemelo dire, tanto oramai ho tantissimi amici, quindi me ne faccio altri anche stasera. La Regione ha pensato bene di inserire tre membri di diritto nel Consiglio di amministrazione dell'Egam, ma tre membri di diritto perché hanno più diritto di chi? Cioè degli altri. Ma perché questo? Quei tre, che erano Campo Basso, Serne e Termoli, poi, insomma, sono stati, a cui si sono aggiunti Boiano e Venafro, su 14, 5 di diritto. Io non la trovo molto giusta questa decisione, anche perché era, appunto, una decisione che toccava ai sindaci, quindi all'interno dell'Egam avrebbero potuto fare delle scelte. Nel momento in cui la legge, io credo, verrà approvata il 13 di aprile, sono a metà, più o meno, a un terzo, lei che farà come Comune? Aderirà o utilizzerà questa libertà, questa autonomia istituzionale per restare fuori? Non può restare fuori il Giegliere? Allora, su questo anche bisogna fare chiarezza. Guardate, sì, c'è una legge che il Governo, io dico il Governo perché oramai lo Stato, parlare di Stato che interviene, è del tutto inutile, piuttosto il Governo che con la sblocca Italia ha pensato bene all'articolo 7 di introdurre questa unicità di gestione, mentre prima il 152 prevedeva la unitarietà di gestione, cosa diversa è l'unicità di gestione. Io dicevo, certamente non aderirò all'Egam un'altra volta probabilmente, e perché questo? Perché le leggi si possono cambiare. In corsa hanno inserito il collegato ambientale il 23 dicembre del 2015. Si può cambiare l'ente, l'istituzione preposta, il Parlamento. Ma volendo, il Governo ha cambiato la legge, l'articolo 7 l'ha integrato con un emendamento nel collegato ambientale del 23 dicembre del 2015, aggiungendo delle cose, ma poteva aggiungerne delle altre, quindi non è detto che non si possa mettere mano anche al dettato normativo nazionale. C'era bisogno di una volontà. Questa è una sua speranza. Ma no, 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 non è una speranza, è l'accusa che ho sempre mosso alla Regione. L'ultima cosa, ma se domani mattina, in questi giorni, ricevesse una telefonata dal Presidente Paolo Frattura, ne direi, caro Beppe, che poi il Presidente ci sa fare, in questo senso, tu sarai il Presidente dell'ECAM, cambierebbe opinione? No, credo proprio di no, credo proprio di no, però lo dico con molta convinzione, proprio perché insomma a me e l'ECAM non mi ci vogliono, quindi io sto tranquillo e posso rispondere tranquillamente che non mi interessa il fatto della Presidenza dell'ECAM. Cercherò invece, con tutte le forze, di continuare questa battaglia, perché io credo che il mondo non possa sempre girare alla rovescia. Io credo che prima o poi anche i cittadini, magari svegliandosi una mattina, si accorgeranno che questo è un torto che hanno subito e che magari si ricomincerà con un referendum, anche se è complicatissimo, perché nel frattempo le norme si sono moltiplicate, quindi dalla legge Galli al 152, collegata ambientale, e poi per finire con la legge Madia, quindi ci stanno mille cose da dover affrontare. Però continueremo la nostra battaglia con l'aiuto dei legali, insomma a dimostrare che... Massimo Romano è illegale, insieme a Margherita Gese, ricordiamolo... Io credo che abbia sbagliato legale, però io... Ti hanno contestato che hai sbagliato legale? Sì, però diciamo che finora, devo dire che insomma... Sei soddisfatto? Sono... Sì, 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 sì. Va bene. Questo qualcuno non ce lo vuol dire chi è? Poi magari lo diciamo. E diciamo? No, no, non lo diciamo adesso perché... Non vorrei che poi magari mi... Dottoressa Stumpo, a proposito di regredo Sblocca Italia, di Renziana, a mia memoria, io ho saputo oggi che, insomma, nel Basso Molise, verso Piano di Larino, San Martino, potrebbero cominciare, forse cominceranno le perforazioni, per ricercare... Sì, perché c'è stato un ulteriore... Se era possibile peggiorare qualcosa che è stato già catastrofico per l'Italia, ci sono riusciti, perché ultimamente hanno anche modificato le norme che consentono la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla procedura di via, abolendo le conferenze di servizio aperto, impedendo quindi qualunque partecipazione dei cittadini, quindi si parte. E dell'altro giorno, mi è arrivato poco prima che uscisse qui sui giornali, direttamente appunto dal Forum dell'Acqua, la notizia che era stato approvato il secondo pozzo a rotello. Anche quello è un discorso che è strettamente collegato con l'acqua, cioè il bene comune territorio, che è memoria storica, identità dei cittadini, perché perdere il paese significa veramente sentirsi spaisati, non riconoscere il paesaggio significa perdere la propria identità e perdere la proprietà dell'acqua significa lo stesso modo, perdere qualcosa che ha un significato veramente atavico, risponde a qualcosa di architipico, per questo probabilmente anche il referendum ha avuto quella straordinaria partecipazione, significa davvero andare a intaccare quello che è il diritto stesso del cittadino ad essere padrone della propria esistenza. Quello che noi contestiamo in tutte queste vicende sulle quali speriamo di risvegliare la partecipazione, anche se, come diceva prima Lanza, sono tempi difficili, in Molise lo sono sempre stati, ma a livello sociale adesso è difficile appassionarsi a cause che richiedono veramente dedizione, il fatto per cui poi dilagano quegli atteggiamenti populistici per cui, ah, non si crede più nella politica, magnano tutti, sono tutti uguali, le solite frasi che vogliono solo il vitalizio, sono il frutto del continuo respingimento che il cittadino comune sente attuato. Sono il frutto della cattiva politica. Sono il frutto soprattutto di questo atteggiamento di cui parlavo prima, cioè noi siamo un fastidio. Certamente appassionarsi all'antipolitica non fa bene, voglio dire, però anche, cioè, nella Costituzione italiana i nostri rappresentanti siedono sulle loro poltrone come interpreti delle nostre esigenze. Noi siamo i loro datori di lavoro. Quello che noi percepiamo in tutti gli incontri a livello istituzionale è un fastidio epidermico nel dover rispondere a quello a cui tu dovresti rendere conto. E non è più tollerabile. Per questo la diffidenza, per questo la rabbia, per questo io mi auguro la risposta, perché non è ammissibile che questo sia diventato un paese dove nemmeno un referendum vinto in quella maniera vale nulla. Per cui questi signori appunto giocano sul termine in aus, giocano sul fatto che le norme sull'acqua sono talmente complicate che senza voler parlare male di nessuno, io non so quanta contezza ne abbia in maniera seria chi sta decidendo per conto nostro. Dato che c'è questo muro di chiusura e si tiene fuori chi questa contezza ce l'ha perché ci ha studiato da anni come gli esperti del forum. Non parlo a titolo personale, non me lo sognarei. Assessore Nagni, ce l'hanno anche con lei perché si sta nascondendo. No, è una battuta ovviamente. Ah, è lì. L'assessore Nagni mi ha ascoltato. Buonasera, assessore. Buonasera. Lei mi ha fatto un po' come dire, trepidare perché non rispondeva al telefono. No, ho avuto problemi con la linea. Solo problemi di linea. Il telefono squillava. Il telefono squillava. Nessuna fuga. Nella pausa pubblicitaria ho provato col mio cellulare. Allora, assessore, intanto oggi com'è andata dal suo punto di vista in consiglio regionale? Andiamo un po' lenti, devo dire la verità, però se la questione ha bisogno di approfondimenti siamo qui. Io credo che qualunque tipo di norma, quando ha bisogno di dibattito e anche di inbricchimento, è giusto che ci sia il tempo necessario per poterla approvare e costruire. È importante fare un buon provvedimento normativo. Lei ha fretta di approvarla in fretta quella legge? No, io personalmente non ho fretta. Ho timore che possa venire fuori un commissariamento, ovviamente già in un certo senso segnalato dal Ministero dell'Ambiente e dall'autorità di vigilanza, che ci potrebbe levare la possibilità di fare questo percorso che, ripeto, lo ha detto anche in consiglio, va verso una gestione pubblica del processo dell'idrico. Però la legge non si presta a questa interpretazione. Non la esclude, ovviamente, ma neanche dà la certezza. Ma no, vede, noi dobbiamo realizzare un provvedimento che sia funzionale rispetto alla nostra volontà che è quella di andare verso una gestione pubblica e contemporaneamente non sia troppo di facile utilizzazione da parte di chi oggi ce la vuole rimandare indietro per nominare un commissario. Io alcune volte quando vedo e sento gli interventi esterni ed interni al Consiglio regionale temo che qualcuno che giochi ad alzare troppo il livello diciamo di intervento e anche di definizione punti decisamente al commissariamento. E quindi comincio a temere io che ci sia qualcuno che gioca alle spalle della nostra volontà. Quindi lei temi il commissariamento evidentemente non sarebbe una cosa positiva per nessuno ma intanto avete perso un anno e mezzo è un anno e mezzo che discutete di Ecam. Dica è un anno e mezzo che parlate di Ecam quindi di tempo ne avete perso voglio dire. Beh sì abbiamo guardi noi ci siamo mossi subito dopo la segnalazione e ci siamo mossi in contemporanea con la Sardegna. La Sardegna ha provato il provvedimento in giunta come noi. In Sardegna secondo me ha funzionato alla maturità di tutti e alla fine si è arrivati a un provvedimento normativo certo. Qui è scattata una guerra a volte strumentale a volte provocata a volte anche forse di sospetto e di paura che ha determinato quello che stiamo vivendo ma ciò non toglie che la parola fine ancora non c'è e quindi noi abbiamo spalle grandi per poter affrontare quello che verrà perché per quel che mi riguarda è importante che la legge sia approvata in questa maniera con le correzioni necessarie ma che possa dare garanzia a tutti coloro che oggi hanno avuto paura o sospetto che la regione possa vendere l'acqua o dare la gestione dell'acqua a una struttura privata. Assessore c'è il suo amico fidato Massimo Romano che voleva precisare una cosa prego Avvocato No era solo per diciamo dare una notizia all'assessore Nanni che forse si era distratto la regione Sardegna è una regione a statuto speciale lo statuto regionale del Molise l'hanno approvato proprio loro diciamo così non Nanni perché non essendo consigliere perché assessore esterno non l'ha votata lui personalmente ma dico c'è un nuovo statuto dal 2012 dal 2013 l'ha approvata credo da questa legislatura ed è stato questo legislatore regionale ad aver disegnato i poteri le competenze le prerogative del Consiglio regionale a cui hanno demandato non soltanto il potere di istituire degli enti regionali ma anche quello relativo alle modalità di gestione dei servizi pubblici essenziali e quindi l'organizzazione diciamo così dei servizi pubblici essenziali lo statuto lo hanno approvato loro gli era stato detto che si sarebbero andati a schiantare contro un muro c'è voluto il TAR con una attività diciamo così di ricorsi contro ricorsi eccetera notificazioni eccetera eccetera per pubblici programmi e quant'altro per diciamo accertare con un anno di ritardo quello che invece era chiarissimo sin dai primi giorni richiamare esperienze di regione a statuto speciale che appunto non sono paragonabili sotto il profilo costituzionale al Molise mi sembra risibile diciamo sarebbe più ritengo insomma più serio da parte di chi ha la responsabilità istituzionale a tenersi diciamo così non alla polemica ma a prendere atto che c'è stato un problema nell'impostazione di questa riforma e tentare però secondo me di non riproporre gli stessi problemi perché se errare è umano perseverare è diabolico sentiamo l'assessore assessore ma intanto io non mi sono permesso di richiamare diciamo esempi errati ho soltanto detto che siamo partiti in contemporanea rispetto alla norma precedente alla segnalazione precedente tutto qua la legge stabilità aveva delle questioni la Sardegna e il Molise in quale sono partiti insieme non mi sono permesso di fare nessun altro tipo di esempio e ne avevo diciamo intenzione di mettere in discussione il cammino del Molise al cammino della Sardegna a me quello che sembra però devo dirlo non al politico Massimo Romano ma all'avvocato Massimo Romano è che ci sia in questa questione una diciamo preoccupazione secondo me non corretta rispetto al comportamento del governo regionale che ha detto dal primo giorno e continua a dire che il percorso del ciclo integrato dell'isico che sia integrato nel senso di pieno o sia integrato nel senso di dotto è comunque un percorso che noi vogliamo conservare sul piano del pubblico lo abbiamo detto più volte siamo convinti di questo siamo convinti che l'acqua del Molise è una tentazione per tutti e soprattutto per quelle aziende che oggi hanno fatto economia in altre regioni con l'acqua e vogliamo confermare questo percorso e lo vogliamo fare senza tendennamenti ma soprattutto senza rischi che determinano rispetto alle norme che scriviamo un percorso che possa essere considerato da chi ci controlla in contrasto con le norme vigenti su questo abbiamo aperto il dibattito a tutti tutti coloro che portano un contributo diciamo fattivo ad un processo che va verso questa direzione è benvoluto ed è apprezzato Assessore intanto osservo che il consiglio regionale è stato coinvolto adesso potevate coinvolgere un anno e mezzo fa evitavate il TAR quantomeno e poi sull'ultima affermazione c'è Marcella Stumbo che vuole già l'ha detto lo ripeterà glielo faccio ripetere che le associazioni non sono state coinvolte minimamente Marcella Stumbo prego dottoressa come rappresentanti del forum nazionale dei movimenti per l'acqua noi abbiamo chiesto già da parecchio tempo un'audizione in terza commissione in prima commissione ci è stato risposto che non era possibile quindi non è assolutamente vero che ci sia stata apertura e nel nostro caso proprio alle associazioni che hanno la maggiore competenza sul territorio e che dispongono di esperti nazionali sulla cui abilità non è consentito discutere quindi mi consente Assessore l'apertura e l'accettazione dei contributi non ci sono stati noi avevamo elaborato addirittura una legge regionale e modificato lo statuto di Molise Acque non sono stati assolutamente presi in considerazione quindi almeno questa parte delle sue affermazioni non risponde Assessore si può rimediare riconvocando un po' tutti i soggetti interessati anche in commissione o dall'assessorato al suo assessorato scusa devo fare delle presi intanto abbiamo fatto moltissime riunioni con i comuni che erano gli enti i comuni abbiamo accettato questo in prima battuta a trattare essendo gli enti che dovranno gestire in forma congiunta il quadro di distribuzione all'interno degli amministratori abbiamo fatto molte riunioni io vorrei ricordare che su 136 comuni oltre 100 se non 110 adesso non ricordo bene il numero hanno deliberato con delibera di consiglio comunale adesso a me non mi sembra una volontà estorta quella della delibera del consiglio comunale quindi c'è stato un percorso che noi siamo andati a tutte le riunioni in cui ci hanno invitato abbiamo ascoltato tutto certo che probabilmente abbiamo ascoltato anche il forum sono venuto a una riunione del forum mi è sembrato di sentire solo offese piuttosto che proposte questo è quello che viene fuori dal percorso e detto questo tutte le proposte che sono arrivate sono state vagliate dalla struttura e dalle strutture tecniche perché le proposte non le vaglia l'assessore l'assessore lascia le strutture che hanno il compito tecnico di verificare le proposte che vengono di fare una valutazione dal punto di vista della fattibilità dei documenti che ci vengono proposti quindi probabilmente anche quei documenti sono stati vagliati dalla struttura e quindi non che noi sfuggiamo la responsabilità ma certo noi siamo il governo e dobbiamo fare delle scelte non c'è dubbio Massimo Romano e poi Lanza ancora con lei assessore io volevo solo puntualizzare riguardo al discorso che 100 comuni o 110 comuni hanno aderito all'Egam voglio sottolineare in qualche modo esattamente cioè se la regione ha diffidato i comuni ad aderire sotto la minaccia del commissariamento cioè la regione con decreti presidenziali e poi con i decreti del commissario dell'Egam ha notificato alle amministrazioni comunali provvedimenti con i quali si andava a dare l'adesione all'Egam come un fatto vincolato addirittura i comuni che hanno deliberato nella loro autonomia costituzionale la scelta motivata di non aderire all'Egam perfino quei comuni sono stati commissariati con decreto del presidente della regione quindi diciamo se vogliamo essere seri fino in fondo le cose dobbiamo dirle tutte si è presa una decisione che era quella di andare ad imporre ai comuni di dover aderire al buio perché non hanno nemmeno predefinito quali erano i costi quindi la regione molise aveva imposto ai comuni di adottare degli atti che sono a nostro avviso addirittura nulli perché gli atti degli enti locali che non prevedono la copertura finanziaria a fronte di impegni di spesa sono nulli va bene sentiamo Nagni poi c'è un'altra domanda prego Nagni c'è una risposta abbastanza chiara Massimo non può non dimenticare o scordare che lo prevede la legge noi non abbiamo fatto nulla non siamo stiamo lì col mitra e con la pistola la legge nazionale dice lei quale legge Nagni la legge prevede il commissario lo sblocca Italia dice lei il dibattito si dovrebbe aprire forse a livello nazionale lo sblocca Italia dice mettere in discussione una normativa nazionale che prevede nel caso specifico il commissario e su questo sarei pronto anche a dibattere forse anche a vantaggio delle tesi di Massimo Romano ma Massimo non può far finta di utilizzare la normativa quando è utile per ottenere un risultato e partita di che non ci sia quando questo risultato non viene la legge lo dice la richiama quando determina il rapporto tra la Sardegna e il Molise la deve richiamare anche quando noi siamo obbligati a utilizzare il meccanismo del commissariamento perché lo dice la legge brevemente Romano brevemente lo dice la legge no dico premesso che se l'assessore volesse ingaggiare una battaglia anche a livello nazionale per rivendicare per esempio l'autonomia le peculiarità del Molise noi saremmo disponibili a fare la battaglia fermo restando che abbiamo scusa se no ci sovrapponiamo se no non si capisce da parte diciamo così immagino dei comuni ma anche di altre forze politiche la disponibilità a farla il problema è che non è vero che lo stabilisce la legge perché se fosse stato un obbligo quello dei comuni di aderire all'Egam non ci sarebbe voluta la delibera di consiglio di adesione assessore la differenza sta tutta qui cioè se è un obbligo previsto già dalla legge dello Stato i comuni non avrebbero dovuto fare la delibera di adesione perché o è una delibera coartata e in questo caso si vorrebbe un problema ma forse nemmeno di diritto degli enti locali ma di altri di altre branche diciamo della legge oppure se non è come non è una delibera coartata è una scelta che va ad assumere l'ente locale ma l'ente locale e chiudo è stato posto nella condizione di dover scegliere con la pistola puntata del commissariamento ecco qua allora Ragni lei ribadisce che lo prevede la legge sblocchitaria certo che lo sa lo sa anche bene Massimo e accolgo il suo invito ad aprire un dibattito sul quadro nazionale che è altro ragionamento rispetto a chi ha l'obbligo in regione di fare le cose migliori per il proprio territorio non di mettersi a fare le battaglie diciamo che non hanno diciamo piedi per camminare detto questo io potrei avere una mia idea personale su quello che succede ma dal sessore ho l'obbligo di rappresentare le questioni normative nazionali in una maniera più corretta e penso che questo potrà capitare anche a Massimo quando io mi auguro per lui vincere a qualche elezione ma stiamo parlando di un assessore che non è stato eletto da nessuno ma è lui che fa polemica stiamo parlando di altro cioè fa l'assessore esterno non è stato eletto da nessuno è stato miracolato devo sintetizzare allora dicendo è cominciata la campagna elettorale sull'acqua ma non è stato eletto da nessuno ma parla a lui che non è stato eletto da nessuno ma stiamo sfiorando proprio la ridicola c'era l'ansia che voleva dire la cosa dobbiamo liberare però l'assessore Nagni però il 267 il tuo è il testo unico degli enti locali prevede che per ogni atto adottato da una pubblica amministrazione se appunto ci sono dei costi che vengano indicati e che ci sia la regolarità contabile a quell'atto allegata se non sono indicati i costi e lo ha detto Massimo Romano ma no ma è un'altra legge che ci obbliga non possiamo adottare un atto allo scoperto cioè qua non si bleffa Nani ha detto io devo rispettare la normativa nazionale e noi dobbiamo rispettare pure l'altra è inutile che lo facciamo riparlare su questo Nagni c'è una domanda di Ricola Lanza invece sì per agevolare quello che ho sentito dall'intervento che l'acqua affinché l'acqua resti pubblica c'è un emendamento presentato oggi da Sinistra Italiana che è molto stringente rispetto all'argomento affinché l'acqua resti pubblica voi che fate? lo voterete questo emendamento? noi non facciamo valutazioni diciamo personali io tutto quello che va nell'indirizzo dell'acqua pubblica che può la gestione dell'acqua pubblica e che può essere in sintonia con il quadro normativa lo accetto ma deve sapere Nicola ed è oggi stata presente in consiglio e quindi lo sa bene che rispetto a qualunque tipo di intervento e di emendamento noi chiediamo una struttura tecnica che è formata da avvocati che lavorano da anni in consiglio regionale un conforto per capire se quel tipo di provenimento può essere rischioso rispetto all'ipotesi diciamo di osservazione della legge tutto qua il tentativo di strumentalizzare fino all'eccesso il comportamento del governo regionale per far pensare a tutto il Molise che noi stiamo facendo un'operazione che mette in campo l'ipotesi di vendere l'acqua è una stupidaggine è una stupidaggine perché noi lo abbiamo detto dall'inizio e ripetiamo e lo ripeto pronto? Sì pronto pronto prego concluda e lo ripeto senza diciamo tentennamenti tutto quello che ovviamente vagliato dalle strutture legali e tecniche perché io non sono un legale e non ho intenzione di sostituirmi a un legale o al nostro ufficio legale quindi mi fido di quello che succede del baglio tecnico della proposta tutto quello che ha un meccanismo che funziona e che non può essere messo in discussione da un'osservazione di carattere nazionale quindi dall'ipotesi che la norma per essere chiara torni indietro e il governo regionale lo accetta Assessore questa dichiarazione di fedeltà all'acqua pubblica resta ovviamente registrata poi lo abbiamo detto in tutti i modi e tutti continuano a pensare che noi lo diciamo ma di fatto non lo facciamo perché stiamo costruendo una norma che può essere accreditata dalle multinazionali con l'ultimissima domanda questo è quello che cercano di dire e cercano di far credere ma non è così con l'ultimissima domanda quell'emendamento approvato oggi sull'articolo 6 che prevede la possibilità per una società in house con Molise Acque chi l'ha voluto lei pensa che quell'emendamento può risolvere il problema acqua pubblica? viene fuori da un dibattito in consiglio regionale viene fuori da un dibattito all'interno dei capigruppo e dalle commissioni cioè l'idea oggi di pensare che captazione e abduzione rimanga a Molise Acque e che la distribuzione possa avvenire con la struttura pubblica una società non so la forma la verificheremo che abbia il 51% dei comuni perché deve essere in house e il 49% di Molise Acque che è partecipato al 100% dalla regione è una forma quasi di ciclo integrato può essere discutibile ma certamente va verso l'ipotesi di una gestione pubblica lui dice l'Aza Molise Acque resterebbe la capettazione e il sollevamento dell'acqua quello che fa oggi la Molise Acque attualmente si occupa di captazione e abduzione cioè capta l'acqua e la porta fino all'ingresso dei comuni senza cambiare forma giuridica va bene chiudiamola qui Assessore un impegno le voglio strappare prima del 13 aprile ma perché non convoca lei o la commissione consigliare capisco che sono due cose diverse le associazioni che si propongono per dare il loro contributo forum per l'acqua pubblica ci sono tante associazioni che stanno difendendo se lo prende questo impegno ma guardi per me non ci sono problemi continuo ad essere apertissimo a tutte le ipotesi io vorrei però che quando si siede al tavolo si abbia diciamo la la cultura non del sospetto ad ogni per ogni per ogni condizione cioè capire che dall'altra parte c'è un soggetto che ha intenzione di fare la stessa cosa e magari di farla cercando di non fare la figura dei fessi che magari qualche volta facciamo per nostri errori e su questo ha ragione Massimo Romano ma che spesso non è nostra volontà a fare benissimo Assessore stabilisca lei una data ma la voglio in studio per parlare di strada lei Assessore all'infrastrutture di strada viabilità e trasporti abbiamo un Molise che sta franando e magari ci illustra i provvedimenti grazie del suo intervento buona serata un saluto a tutti gli ospiti grazie allora eravamo arrivati credo doveva parlare no Nicola aveva parlato aveva già parlato stavamo facendo no stavamo a lei stavamo a lei abbiamo pochissimo tempo andiamo dall'ingegnere Pillarella allora mi sembra che la volontà dichiarata di mantenere l'acqua pubblica c'è per tutti poi verificheremo è un solo tema tecnico a questo punto ma lei solleciterà la direzione di marcia verso Molise Acque perché Molise Acque tutto sommato è stata una bella azienda è stata ideata da questa regione e lontanamente poi è stato modificato lo statuto è diventata Molise Acque però ha svolto un ruolo in questa regione voglio dire qualcosa di romantico a questo punto non di politico ci sta ho scoperto io non conoscevo bene Molise Acque non avevo modo di avere delle relazioni delle persone meravigliose nel senso che sono talenti conoscitori come diceva pure anche Massimo prima conoscono dal loro punto di vista ogni singolo posto brillano gli occhi quando raccontano di un posto di Molise di un guasto che riescono a risolvere del fatto che magari anche in giorni di festa mi è capitato tantissime volte riescono ad andare nei luoghi dove si è magari verificato un guasto e ci mettono tutto il loro impegno il loro entusiasmo per risolverlo e per dare un valore aggiunto ai cittadini abbiamo messo anche abbiamo delle immagini in archivi di Molise Acque di tutte le cappettazioni sono bellissime e stupende fatte in primavera grazie della sua partecipazione 30 secondi a testa siamo fuori tempo Massimo come vuole chiudere questa puntata dottoressa Stumbo vorrei chiudere dicendo che non rassicura per niente avere sentito l'assessore dire che lasceremo a Molise Acque la cappettazione e l'adduzione e poi il resto si vedrà un'azienda vediamo come ma è assurdo che si facciano queste dichiarazioni si sta discutendo una legge non solo non ha detto che sarà diritto pubblico che gestirà questa azienda non sanno quale sarà questa azienda sono disposto ad ascoltare tutti io ho la mail di risposta della terza commissione non c'è stata disponibilità all'ascolto se per caso l'assessore vi convocherà lei adatti e notare Tommaso 30 secondi per chiudere niente io voglio chiudere semplicemente dicendo questo cioè noi ci aspettavamo che la regione invece stesse al nostro fianco perché per affrontare appunto dal punto di vista normativo la questione anche nei confronti del governo perché noi crediamo in quello che stiamo facendo crediamo che questa sia l'ennesima truffa ai danni dei cittadini ma non lo dico io da sindaco di Campodipietra lo dicono i dati i fatti e le esperienze già appunto come dicevo prima pagate da altre realtà da altri cittadini insomma e non ci voleva questa questa da questa gestione della regione prego Lanza brevemente siamo messi a disposizione da tempo per un processo partecipativo un processo partecipativo che sta crescendo e sarà diciamo nostro nostro interesse agire con forza affinché la politica ci ascolti bellissimo Massimo Romano credo che questo governo regionale incarica ormai da più di 4 anni e ogni cittadino si sarà fatto un'idea di quanto siano credibili o attendibili le dichiarazioni di principio dei loro esponenti io mi auguro che entro il 13 di aprile ci sia un sussulto diciamo di serietà e quindi mi auguro che questi propositi che dicono a parole si trasformino in progetti di legge che debbano essere approvati all'interno della legge che si andrà ad approvare il 13 di aprile rinviare ad un successivo intervento legislativo sarà una purtroppo una presa in giro perché si creeranno i presupposti per una privatizzazione che non sarà diciamo esplicitata ma sarà purtroppo sotto traccia e nei fatti questo è un problema e sarà un problema non soltanto per gli oppositori politici diciamo così del governo regionale ma per tutti i cittadini e per il Molise che perderà una risorsa e una ricchezza che utilizzata da mani politicamente sapienti potrebbe costituire proprio una assoluta arma di rilancio del nostro territorio anche nei rapporti con lo Stato e con le altre regioni da utilizzare proprio per diciamo ribilanciare e riequilibrare il peso politico che purtroppo non abbiamo naturalmente l'acqua sarà di sicuro un tema di campagna elettorale e anche come dire di programma elettorale perché credo che tutti diranno qualcosa sull'acqua io ringrazio i nostri ospiti siamo come al solito fuori tempo massimo devo ringraziare questa volta in modo particolare i canadesi i molisani che vivono in Canada che ci seguono costantemente o in in rete comunque in rete o in streaming oppure la vanno a riguardare il giorno dopo vi ricordo che questa puntata va in replica come sempre domani a partire dalle ore 16 e vi do appuntamento se lo vorrete per venerdì prossimo alla stessa ora grazie e buonanotte da Moby Dick linea Emanuela Petescia per il Tg delle 23 a te Emanuela a te Emanuela Petescia Grazie.